Bene, bentornati, bentrovati, riprendiamo i lavori con la seconda sessione, la sessione pomeridiana, do la parola al collega Gabriele Tarabusi, compagno di tante esperienze interessanti, coautore di lavori che vi racconterà, che rimangono sulla scia dei prodotti scientifici e che ruotano sempre attorno alla storia, il contributo della storia alla scienza. Una storia che, quella della sismologia storica, come avete visto, va indietro nel nostro catalogo a ben 25 secoli. Siamo gli unici al mondo a poter vantare, diciamo, un arco temporale così esteso. Peraltro, più andiamo indietro, ovviamente, più ci perdiamo dei pezzi di storia, perché, diciamo, ovviamente nell'Alpago è impensabile avere la documentazione di un terremoto di 25 secoli fa. Se non c'era un tempio romano o qualche struttura importante, diciamo, che l'archeologia ci restituisce come danneggiata dei terremoti. Gabriele, a te. Graziano, grazie. Io ringrazio innanzitutto il comune di Belluno per ospitarci. Io spero che si senta bene. Devo parlare più forte o più vicino, forse. Ok, più vicino. Oggi sono un tecnologo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Io sono di formazione geologo. Ho avuto uno studio professionale per diversi anni. mi sono occupato in Emilia-Romagna di pianificazione territoriale, prevalentemente, quindi studi di microzonazione sismica. Oggi qua mi fa piacere che ci sia una platea di professionisti, che non sono geologi, ai quali, appunto, mi rivolgerò, perché, diciamo, che la materia, il nostro campo di studio di cui parliamo oggi, cioè la sismologia storica, diciamo, è, ha, diciamo, noi produciamo tanti dati di sismologia storica, diverse banche dati, adesso io cercherò di farvi vedere, almeno le principali, ma oggi quello che mi preme è farvi vedere, in particolare, visto il pubblico che è qui presente, e presente anche in collegamento, quali possono essere gli strumenti un po' nuovi, che magari non tutti conoscono, perché sono proprio molto recenti, o proprio in procinto di essere pubblicati, che possono essere proprio utili anche nella pratica professionale. Questo è, è quello a cui tengo. Io, oggi, quindi, parlo di banche dati, comincio a parlare di banche dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, questo è il nostro sito web, da questo menu che vedete, è possibile, se non si vede magari benissimo, comunque, vedete che trovate, andando in alto, la voce cataloghi e banche dati. Qui esiste un elenco degli principali cataloghi e banche dati pubblicati dal nostro, pubblicati dal nostro istituto. Ma non solo, è abbastanza recente questo portale dei dati aperti dell'Ingv. Sostanzialmente si tratta di un catalogo di metadati, di tutti i dati della ricerca che sono pubblicati dall'Istituto. Questo vi permette, per parole chiave, per area geografica, o, insomma, per vari criteri di ricerca, di ricercare quali sono i dati che possono essere utili a voi, e quindi non solo quelli di sismologia storica, ma di tutte le materie, di tutte le varie discipline di cui si occupa l'Istituto. Ecco, sono raccolte in questo catalogo che ritengo molto utile, che forse non tutti ancora conoscono. Banche dati macrosismiche di NGV a scala nazionale. Abbiamo visto oggi, questa mattina, l'importante contributo della sismologia storica alla conoscenza sui terremoti, quindi non c'è solo la sismologia strumentale, ma anche quella storica. Proprio oggi, Graziano, ha parlato, quindi io sul piano teorico non vi spiegherò niente, perché l'avete già visto questa mattina, ma mi limiterò a illustrare le tre principali banche dati a scala nazionale che trattano questa materia. La prima di cui vi parlerò un po' più diffusamente, e che adesso in questo schema viene vista qui a sinistra, è il catalogo dei forti terremoti in Italia. Raccoglie i dati della ricerca finalizzata a ricostruire quello che è l'impatto dei terremoti storici che hanno causato i maggiori danni, sostanzialmente, non solo, ma principalmente quelli. E tali risultati, più le fonti storiche su cui questi risultati sono basati, e sono presentati in modo dettagliato e armonizzato all'interno di un'unica banca dati. Lo vedremo in maggiore dettaglio. Quindi qui siamo sul piano della ricerca. Questo per distinguere un po' i prodotti che magari a volte voi potete intercettare e, diciamo, magari, come dire, non percepire nell'immediato quali sono le differenze. Qui siamo sul campo della ricerca. Sono studi di terremoti, sono più di 1200 terremoti studiati e analizzati in dettaglio. Si arriva però a, si passa logicamente, diciamo dal punto di vista logico, della struttura ad un archivio, cioè questo archivio ASMI, Archivio Storico Macrossismico Italiano, che è una banca dati molto preziosa che raccoglie tutti gli studi che sono stati fatti dall'istituto e non sui terremoti storici. Sostanzialmente avete la possibilità di consultare per ogni terremoto i risultati degli studi, non solo quelli di CFT, ma anche quelli realizzati da altri gruppi all'interno dell'istituto, nel passato o nel presente da altri ricercatori, anche non necessariamente del nostro istituto. In questo modo potete confrontare, mettere a confronto rapidamente i risultati di diversi studi per lo stesso terremoto. A questo punto capite che l'archivio ASMI è un archivio utile per la ricerca, per fare confronti di questo tipo, ma praticamente nella pratica professionale si è bisogno di una sintesi e voi conoscete sicuramente tutti il catalogo parametrico dei terremoti italiani e il relativo database macrosismico italiano. Nel database macrosismico ci sono le osservazioni degli effetti nelle località, il catalogo parametrico sostanzialmente parametrizza questi dati e restituisce un catalogo vero e proprio con valori di intensità e magnitudo. Quindi si tratta della sintesi, si sceglie dall'archivio ASMI qual è lo studio che è maggiormente affidabile o magari più completo che non necessariamente può essere quello del catalogo dei forti terremoti perché come vedremo, data quello che noi abbiamo fatto nel catalogo su più di 1200 terremoti, ovviamente altri ricercatori possono essere andati avanti e avere integrato la nostra ricerca che avete visto e fatta di ricerca prevalentemente su fonti storiche che possono essere riperite. Quindi è una ricerca che è in continua evoluzione. CPT DBMI, molto rapidamente perché voi già li conoscete, hanno un unico portale di accesso integrato che permette ovviamente la consultazione per terremoto, quindi con la lista dei terremoti, la mappa poi degli effetti presa dal DBMI. Vado abbastanza veloce perché ho tante cose da dirvi e questo sicuramente lo conoscete. Faccio alcune digressioni un po' specifiche rispetto, un po' più tecniche rispetto a quello che avete visto magari questa... proprio per cercare di indirizzarvi bene su alcune potenzialità di questi strumenti che forse non tutti hanno notato. Molti probabilmente nelle loro relazioni utilizzano anche questa consultazione per località che ci permette di avere la storia sismica di ciascuna località. Quindi ad esempio io che sono geologo vedo che nelle introduzioni delle relazioni geologiche spesso viene citato questa fonte, il database macrosismico italiano, proprio per ricostruire la storia sismica della località che si sta indagando. Questo però volevo segnalare che nell'accesso per località c'è anche questo tab che vedete sopra che è la consultazione per ente territoriale. Questo perché? Perché è importante? Perché il dato sismologico storico ovviamente si riferisce agli effetti su una singola località che può essere essere comune, essere una frazione, essere stato un comune e non esserlo più, esserlo diventato, ok? Quindi sostanzialmente noi raccogliamo i dati delle fonti storiche e li accorpiamo per località, non per comune. Quindi un singolo comune come quello di Belluno può avere ovviamente più località. Quindi io lo dico perché ho visto appunto questo errore sostanzialmente fatto che spesso quando si fa una valutazione, uno studio a livello territoriale, a livello di scala comunale ad esempio, si guarda solamente la storia sismica del capoluogo. Questo strumento permette di vedere anche quella delle frazioni. Quindi se lo sta facendo idealmente una microzonazione sismica, uno studio per la pianificazione territoriale di un comune, devo tenere conto non solo degli effetti sul capoluogo, ma anche degli effetti sulle frazioni e questo vi permette di farlo. Veniamo adesso al CFT 5Med che è l'ultimo prodotto del 2018 derivato dalla banca dati del CFT di cui vi dicevo. CFT rappresenta ancora oggi lo studio di riferimento per la maggior parte dei forti terremoti che sono presenti in CPT, cioè i dati sintetici di CPT vengono presi dagli studi prevalentemente del CFT. Il CFT è anche accessibile tramite servizi web, tutte queste banche dati che vi faccio vedere sono anche accessibili attraverso servizi web che vi permettono di importare i dati all'interno ad esempio di un sistema GIS vostro che utilizzate per appunto fare mappe. Quindi potete usare le mappe che direttamente forniamo noi tramite l'interfaccia a farvi far bene delle vostre, ok? È stato pubblicato ovviamente anche come articolo scientifico. Qual è la differenza del CFT rispetto agli altri cataloghi? E forse la sua unicità, diciamo come diceva anche Graziano, appunto un patrimonio unico al mondo. Perché non ci sono solo i dati parametrici degli effetti, degli effetti delle località, i dati sintetici, quelli epicentrali, ma per ogni determinazione che viene fatta nel CFT sia a livello del terremoto intero sia a livello delle singole località ci sono dei commenti storico-critici che sono oltre 38.000 dove il ricercatore ha sostanzialmente motivato ad esempio per quanto riguarda gli effetti nelle singole località gli effetti sul contesto antropico, effetti sull'ambiente naturale ha descritto quello e sintetizzato quello che le fonti riportano. In questo modo c'è una completa trasparenza dello studio. Non solo per le intere sequenze sismiche ci sono ovviamente gli effetti sul contesto antropico ma anche gli effetti sul contesto economico e sociale quindi si arriva a parlare anche delle cose che abbiamo detto oggi anche in ottica di consapevolezza e del rischio. La risposta istituzionale, informazioni sulla sequenza, insomma i commenti storico-critici sostanzialmente danno un panorama descrittivo degli effetti dei terremoti. Non solo, direttamente dai commenti o dall'intera bibliografia per ciascuna sequenza sismica è possibile accedere alla bibliografia che ci ha permesso di fare queste sintesi e di distribuire questi parametri. Questo, la bibliografia è basata su oltre 47.000 voci bibliografiche di cui oltre 23.000 consultabili in PDF. Questi numeri aumenteranno molto nella prossima versione che noi prevediamo e speriamo di pubblicare il prossimo anno. Ora, il CFT quindi con questo che vi ho fatto vedere consente la completa trasparenza dello studio. Cosa significa? Che per centinaia di terremoti consente di fornire un quadro completo che permette di inserire il terremoto nel contesto storico, economico e sociale, di conoscere le valutazioni alla base delle singole attribuzioni di intensità, quindi c'è trasparenza sul perché è stato dato quel valore di intensità, ricostruire il percorso della ricerca che ha portato ai risultati con l'indicazione delle fonti, delle testimonianze che spesso vengono rese consultabili laddove possibile e disponibili. Conoscere il livello di approfondimento del singolo studio, oggi abbiamo visto che possono essere diversi i livelli di approfondimento, ma soprattutto questo consente, quello che vi dicevo prima, a un altro studioso di poter riprendere la ricerca per fare miglioramenti, approfondimenti e integrazioni dallo stesso punto in cui è stata conclusa. E questo è un paradigma oggi, questo è da sempre, il CFT esiste dal 1995, è da sempre strutturato così e questa ultima cosa che avete visto, poter riprendere lo studio dove è lasciato, è una cosa molto moderna dell'open science degli ultimi anni. E questa banca dati è stata strutturata così nel 1995. Ora, esiste anche un accesso dedicato agli effetti sull'ambiente, oggi abbiamo visto l'importanza dello studio degli effetti sull'ambiente, è stato, ce ne hanno parlato i relatori questa mattina, spaccature, frane, liquefazioni, maremoti, ok, sono oltre 2300. E gli effetti sull'ambiente sappiamo che tendono a ripresentarsi laddove si sono già verificati in passato, quindi la conoscenza anche in questo caso del passato è utile per comprendere quello che potrebbe, i scenari che potrebbero verificarsi nel futuro. Ora, non solo, il catalogo dei fori terremoti permette di consultare in interoperabilità sui propri dati altri dati, catalogo delle frane, sismicità strumentale, la banca dati DIS che abbiamo visto oggi, quindi questo permette di confrontare dati direttamente sull'interfaccia. Piccola digressione sugli epicentri, faccio velocissimo, l'epicentro è adatto proprio perché il CFT è uno strumento di ricerca, l'epicentro che voi vedete qui può differire dall'epicentro che invece trovate nel CPT, nei parametri, nella localizzazione, questo perché questo è un epicentro, immagini la mappa di un terremoto a mare, 1916 Rimini, che è chiaramente a mare, ma il CFT, la sorgente del terremoto, noi sappiamo essere a mare, ma l'epicentro del CFT non è altro che il centro, il baricentro in un certo senso, degli effetti nelle località e quindi non può che cadere in terra, l'algoritmo che noi utilizziamo sostanzialmente è molto semplice proprio perché non vogliamo dare interpretazioni, quindi questo epicentro è un epicentro puramente macrosismico. Nel CPT da qualche anno invece è stato introdotto un algoritmo più sofisticato che dipende anche da delle scelte che fa il compilatore del CPT che, diciamo, riesce a collocare l'epicentro a mare, ma qui siamo in un, appunto, come vi dicevo prima, nella sintesi, prima siamo nella ricerca, qui siamo nella sintesi, dove si fanno delle scelte, ok? Quindi per questo gli epicentri possono differire, lo dico perché è una domanda che i professionisti a volte ci hanno posto. Poi, cosa possono servire questi cataloghi? Emilia 2012, Irson Emiliano, gli effetti prevedibili del terremoto dell'Emilia, questi sono gli effetti, li avete visti, effetti di liquefazione, spaccature, da cui sono uscite sabbie, eccetera. Erano prevedibili, non erano prevedibili? È una domanda che ci si è posta, molti geologi si sono sorpresi anche in Emilia di questo, pur conoscendo il fenomeno, che si fosse verificato in maniera così diffusa in quelle aree. Bene, però noi sappiamo che nel terremoto del 1570, e non solo, ma nel 1570 sì, un terremoto simile che sostanzialmente avviene in un contesto geodinamico analogo, in una zona molto vicina a quella del 2012, il terremoto che avviene nel Ferrarese, 1570, ripeto, vedete che le fonti storiche, raccolte e sintetizzate nel CFT, e anche consultabili, ovviamente oggi, parlano di una schiuma nera che usciva da delle fessure, oppure da una voragine, da cui uscì sabbia bollente, in questo caso bollente non vuol dire calda, ma che ribolle, quindi fenomeni che erano ben noti, quindi a parità di condizioni geologiche, a parità di contesto fondamentalmente geodinamico, stesse sostanzialmente fronte compressivo appenninico, ecco che i fenomeni si erano già verificati, quindi un geologo professionista ovviamente non può rimanere sorpreso, se conosce queste banche date, impara a consultarle, degli effetti che ci sono stati, quindi qui vi ho messo prevedibili, punto esclamativo, che si sono verificati nel 2012, non può essere una sorpresa. Noi abbiamo pensato poi nel tempo che il CFT aveva una ricchezza tale di informazioni che era necessario creare un portale di accesso che allargasse un po' il campo e ci permettesse di presentare al pubblico tanti prodotti, tra virgolette, accessori, anche se questo termine è un po' limitativo, che nei trent'anni di ricerca sono stati realizzati dal gruppo e anche degli strumenti e delle banche dati di più recente creazione. A titolo di esempio, se si va nella parte della bibliografia, delle pubblicazioni, si trovano la possibilità di scaricare in PDF delle monografie, dei cataloghi, che non sono più reperibili in commercio e che noi abbiamo messo a disposizione in PDF e sono non facili altrimenti da trovare e consultare. Non solo, ci sono articoli scientifici, ovviamente, di nostri colleghi che trattano l'argomento della sismologia storica, ma la cosa più importante è che da quel portale che stiamo cercando di rinnovare per renderlo un po' più razionale, perché nel CFT Lab troverete un pochino nascosto e vorremmo fare un'accessibilità un po' più, come dire, concentrata e più semplice, avete anche molti prodotti e strumenti che vi dicevo prima, i banche dati, 7-8 differenti, che approfondiscono degli argomenti specifici. Qui ne parleremo di quattro, adesso vado molto velocemente, di questi che sono i quattro prodotti più avanzati, sostanzialmente, e più, diciamo, forse interessanti per un pubblico di professionisti. Il primo è questo strumento che ci permette di comparare, di confrontare gli effetti di due terremoti vicini, ad esempio, tratti dal CFT. Qui vi ho messo il terremoto del 1873, gli effetti che appunto a quelli del 1936. Si tratta di due mappe che si muovono in maniera sincrona, quindi pan e zoom sono sincronizzati e l'interrogazione ci permette di vedere anche proprio le sintesi del CFT. Ma non solo, si possono anche confrontare terremoti di cataloghi diversi, di CPT, di ASMI e non solo, anche le mappe che vengono prodotte dal gruppo INGV di Hai sentito il terremoto, che immagino che voi conosciate, quindi, diciamo, sulla base delle notizie che danno i cittadini di Hai sentito il terremoto dopo che hanno avvertito una scossa. Questo ci permette di fare confronti in tempo reale tra terremoti appena avvenuti e i terremoti del passato. Cinque minuti, oh, e basta? Eh, ne devo prendere uno in più, dai. Ne dovrò prendere uno in più, credo. Vado veloce e dico che abbiamo anche uno strumento interessante sulle sequenze sismiche che, diciamo, ci ha permesso, diciamo, abbiamo un commento all'interno del CFT che si chiama appunto sequenza sismica, relativo alle sequenze sismiche in cui sono inseriti i vari terremoti del catalogo, le scosse minori, però, diciamo, sono inserite solo discorsivamente. Qui le abbiamo parametrizzate e siamo andati a rivedere le fonti storiche per cercare di ricostruire l'andamento della sequenza. E per oltre 100 è stato, per oltre 100 sequenze e stiamo continuando, è stato realizzato, diciamo, questo studio approfondito delle fonti. Oggi abbiamo un dimostrativo online di due importanti sequenze, ma presto, diciamo, pubblicheremo tutto quello che abbiamo su queste oltre 100 sequenze. E qui è possibile appunto vedere il grafico delle sequenze, degli effetti e vedete la mappa, in mappa, gli effetti, un po' come si vede nel CFT e potete capire l'importanza di avere, di conoscere come sono evolute certe sequenze sismiche nel momento in cui se ne sta verificando una nella stessa area. Tutti questi strumenti sono stati immaginati e sviluppati grazie alla collaborazione di NGV con il Dipartimento della Protezione Civile. Quindi ovviamente c'è stato anche un input, un interesse da parte del Dipartimento. Abbiamo uno strumento dedicato alle frane sismoindotte su cui non, che è di prossima pubblicazione di cui non riesco a parlarvi adesso perché non abbiamo tempo, però avete visto come sono importanti le frane sismoindotte proprio perché non solo creano danni mentre si verificano ma possono anche ostacolare l'arrivo dei soccorsi in una certa area perché, diciamo, il nostro territorio è molto fragile dal punto di vista del territorio italiano della succedibilità alle frane e quindi il connubio frane-terremoti diciamo è un aspetto importante. Vi voglio spiegare meno e prendermi qualche minuto in più in mezzo, sotto un po', del CFT Visual. Questo è lo strumento che vedete anche fuori che è possibile consultare, uno strumento che abbiamo pubblicato a dicembre di quest'anno che presenta oltre 1400 immagini di terremoti storici e che adesso nella nuova versione che già li potete consultare e che verrà pubblicata nei prossimi giorni diventeranno oltre 2000 e a fine progetto ben oltre 3000 abbiamo già capito che ne continuiamo a reperire. Da cosa succede? Noi chiamiamo fonti visive queste, diciamo, tutte le immagini, disegni, quadri, querelli, incisi, che abbiamo ritrovato nello studio di terremoti storici. Abbiamo avuto l'opportunità con la Convenzione con il Dipartimento dell'Ambito della Convenzione con il Dipartimento della Protezione Civile di sistematizzarle sostanzialmente in una banca dati ma non solo le nostre che avevamo in archivio ma abbiamo ovviamente stretto degli accordi con degli enti degli archivi nazionali e internazionali in cui abbiamo reperito ulteriori immagini. Abbiamo costruito una banca dati, adesso vado abbastanza veloce, che è alla base appunto il servizio web di questa banca dati permette di vedere attraverso questa interfaccia le immagini che sono geolocalizzate all'interno di questo strumento. Ora, questa operazione ci ha messo a contatto con dei mondi che non sono solo il nostro della ricerca della sismologia storica ovviamente, il mondo della storia della fotografia e il mondo ovviamente degli ingegneri abbiamo visto come gli ingegneri utilizzano, abbiamo visto questa mattina queste immagini per ricostruire diciamo la vita sostanzialmente di un edificio, le sue lesioni, i motivi, eccetera. E quindi questa frase che vi riporto a me aveva incuriosito perché appunto leggendo della storia della fotografia qui si tratta di Oliver Wendell Holmes un personaggio americano era un medico ma soprattutto ha fatto l'insegnante lo studioso lo scienziato si occupavano con i personaggi eclettici dell'ottocento sostanzialmente che era un entusiasta della fotografia appena appunto sostanzialmente si cominciavano a vedere le foto stereoscopiche quindi l'importanza di queste fotografie e lui scrive che questo entusiasmo dateci qualche qualche negativo di una cosa che vale la pena vedere presa da punti di vista differenti e tutto ciò che ci serve demolitelo datele fuoco se vi va ok ovviamente nessuno si sogna di demolire degli edifici storici eccetera però questo mi ha fatto pensare che in effetti i terremoti questa cosa poi la fanno quindi noi abbiamo la possibilità di avere di avere fotografie di anche di oggetti di monumenti in questo caso prima del terremoto poi vedete che ne abbiamo diversi la nostra banca dati abbiamo pensato di archiviare anche quelle prima anche foto di interni ok qui siamo al Duomo di Messina e poi però il terremoto ovviamente abbiamo tante foto di interni che noi archiviamo in questa banca dati perché ci interessa il prima ci interessa il dopo ovviamente e ci interessa la ricostruzione ci interessa la prima ricostruzione dopo il 1908 ci interessa vedere che nel 1783 c'era anche un campanile che aveva subito questa incisione che aveva subito anche questo danni e poi dal nostro portale è possibile vedere le foto oggi tramite o foto che abbiamo fatto noi o con Google Street View e vedete che il campanile poi del 1783 è ricomparso ok e questa operazione ci permette di fare proprio quello che oggi l'architetto Duglioni ci ha fatto vedere se noi e quindi noi entriamo anche in contatto con mondi che non sono i nostri quali quello dell'architettura dell'ingegneria già geolocalizzazione i soccorsi la risposta istituzionale ovviamente abbiamo anche un settore a questo la fase post emergenza quindi l'abbattimento dell'attore quindi noi abbiamo non solo collochiamo queste immagini per livelli diversi di precisione non è sempre possibile ricostruire il punto esatto in cui è stata scattata la foto ma anche per temporalmente le cataloghiamo prima del terremoto post terremoto post emergenza quindi ricostruzione e non solo abbiamo le immagini stereoscopiche si possono vedere in 3D con questi occhialini CFT visual anche nella comunicazione del rischio vado molto veloce noi possiamo dal CFT visual vedere direttamente le sintesi del CFT in interoperabilità questo ci consente di capire vedere la descrizione e confrontarla con le immagini direttamente metterle direttamente a confronto questa è una cosa molto importante e vedete che io credo che per una persona a cui si deve comunicare a un pubblico a cui si deve comunicare come si diceva oggi che è una cosa molto importante lo diceva Titti Postiglione questa mattina comunicare una nuova sensibilità cresce una sensibilità sui rischi io credo che si può raccontare con le intensità e dire che c'è stato un terremoto di una certa magnitudo in un certo tempo si può dire con le sintesi del CFT si dice ancora meglio perché ti racconta cosa è successo alla tua città che il Duomo ha avuto delle lesioni ma ancora di più lo si dice con le immagini quando uno vede 10, 20, 30, 40, 50 immagini della propria città i luoghi che lui conosce li vede come erano stati danneggiati ecco credo che questo livello di comunicazione sia uno step ulteriore quindi questo oggetto è utile anche nella comunicazione del rischio io diciamo forse ecco vabbè siamo entrati in contatto anche con attraverso i social media con persone che raccolgono foto di questo tipo la geolocalizzazione è problematica qui nel bellunese ne abbiamo alcune se qualcuno di voi vuole contribuire perché riesce a capire dove sono questi posti noi non siamo riusciti benissimo nel nostro portale è scritto che noi siamo aperti al contributo di tutti è un modo per partecipare all'arricchimento di questo prezioso archivio abbiamo prospettive future sui filmati sulle foto aeree che adesso non vi posso dire perché velocemente la tante comunque è indirizzata a un vasto pubblico dagli studiosi di varie discipline tecnologia e ingegneria l'abbiamo visto ma anche la pianificazione urbana la scienza del restauro scienze storiche della fotografia della cinematografia ma anche la cittadinanza io vi ringrazio per l'attenzione e vi dico che questo CFT Visual è un oggetto che io vi ho fatto vedere molto rapidamente ma in continua evoluzione abbiamo bisogno di lavorare ancora tanto per catalogare sempre più immagini ma credo che sia un lavoro prezioso e anche per voi professionisti vedere questi risultati e toccare un po' con mano gli effetti dei carimoti scusate se non per voi in verità Gabriele ti avevo rubato cinque minuti perché avevo bisogno di ho capito però ti avevo rubato perché c'è un'esigenza di avvocato Megali la invito avvocato Megali del comitato unitario delle professioni rischio sismico prevenzione e responsabilità due parole importanti grazie e grazie per l'organizzazione di questo importante evento che ci apre veramente l'orizzonte e su scenari anche su ricostruzioni su un patrimonio storico fotografico di cui non conoscevamo l'esistenza grazie al dottor Ferrari alla relazione che mi ha preceduto e mi spiana la strada per poter dire due parole sul post terremoto abbiamo visto i crolli abbiamo visto l'emergenza abbiamo visto il post emergenza uno scenario di cui non si è parlato ma su cui vi intratterrò brevemente è quello delle responsabilità perché purtroppo dopo il decesso di persone e il crollo di beni si apre anche il fronte giudiziario dell'accertamento della responsabilità con uno scopo sicuramente repressivo laddove vengono integrate le violazioni del codice penale ma che deve avere anche una natura preventiva per evitare che si possano ripetere fatti simili io ovviamente non dispongo di un patrimonio di così lunga durata però gli eventi che ci sono stati negli ultimi anni hanno dato luogo a diverse ricostruzioni in sede giudiziaria sentenze che vengono spesso citate perché hanno aperto un percorso interpretativo sono quelle relative al terremoto della Campania della Lucania al terremoto di San Giuliano di Puglia ma soprattutto molti procedimenti sono stati aperti per il terremoto dell'Aquila e tutto quello che è successo il 6 aprile del 2009 e sotto questo profilo diverse diverse fattispecie di responsabilità sono emerse la Corte di Cassazione si è pronunciata in più occasioni ma quello che sostanzialmente dice la giurisprudenza è che i terremoti anche di rilevanti intensità sono come abbiamo appreso finora eventi rientranti tra le normali vicende del suolo e quindi non possono essere considerati come accadimenti eccezionali e imprevedibili quando si verifichino in zone qualificate sismiche la cartina che abbiamo appena visto è praticamente piena di zone sismiche è più difficile individuare zone che non lo sono rispetto a zone che lo sono ovviamente poi l'accertamento della responsabilità tiene luogo del caso concreto quindi in ogni caso bisogna rapportare le conseguenze in particolar modo la perdita di vite umane vanno rapportate queste conseguenze alla caratteristica dei luoghi per cui in una zona ad alta sismicità maggiore deve essere l'attenzione rispetto agli edifici rapportato alla caratteristica degli edifici e avere un edificio che ospita poche persone e un conto avere un edificio adibito a strutture come scuole o altri ospedali di altra funzione pubblica dove ovviamente la concentrazione delle persone era maggiore nel caso che ha colpito il terremoto che ha colpito l'Aquila e si era detto che sicuramente ha detto la Corte di Cassazione siamo sicuramente in una zona sismica ma inoltre prima dell'evento c'è stato uno sciame sismico che si protraeva da tempo con incalzante intensità e soprattutto nella tragica notte ci sono state due violentissime scosse e nonostante questo non si è dato luogo all'evacuazione dei luoghi laddove poteva essere sicuramente possibile in particolar modo un fatto che è assunto alla cronaca perché se ne è discusso molto è quello del convitto scolastico il convitto scolastico dove dopo le prime scosse si era creato un allarme per cui i giovani che erano lì avevano manifestato già l'intenzione di allontanarsi e in questo caso a fronte di una conseguenza che doveva essere necessaria l'evacuazione del convitto scolastico sono state fornite addirittura delle rassicurazioni nel senso che si diceva ormai il più è passato quindi non c'è motivo di abbandonare l'edificio scolastico la Corte di Cassazione la giurisprudenza diceva bene le rassicurazioni possono essere date ma si devono fondare su dati scientifici che hanno delle caratteristiche non dico di certezza ma devono avere degli elementi attendibili per poter fare affermazioni di questo tipo e nel caso di specie le considerazioni che sono state fatte in sede difensiva erano del tutto vaghe ma avevamo dedotto che essendoci stato due forti scosse non ce ne sarebbe stata una terza ma non c'era nessun dato scientifico che potesse far prevedere la fine delle scosse di terremoto quindi ovviamente in questo caso la conseguenza è stata l'accertamento della responsabilità ma non tanto sulla prevedibilità o imprevedibilità del crollo dell'edificio quanto proprio sul fatto che a fronte dei dati oggettivi forti scosse di terremoto non si è dato l'ordine di evacuazione di quell'istituto e quindi molte altre sentenze dicono questo sostanzialmente che è il risultato di quello che abbiamo visto finora il suolo nostro è tale non soltanto nostro ma il nostro sicuramente è tale da non poter considerare imprevedibilità di questo tipo e quindi sotto il profilo della prevenzione chi è che deve preoccuparsi ma la catena dei soggetti della prevenzione per quanto riguarda il rischio sismico coinvolge un po' tutti diciamo non è nel caso di esecuzione dei lavori ci può essere il progettista strutturale ci può essere il direttore dei lavori ci può essere il collaudatore varie sono le figure ci può essere il costruttore varie sono le figure coinvolte nei confronti del progettista si è detto che ovviamente deve essere tenuto in considerazione particolare la situazione dei luoghi quindi la sismicità del luogo però il progettista tante volte interviene non soltanto nella fase iniziale di ideazione dell'opera il progettista tante volte interviene in corso d'opera in particolare in questi eventi sismici con grosse conseguenze nel senso della perdita di vite umane quello che è emerso più volte è che c'erano stati degli interventi sugli edifici si poteva essere una nuova copertura del tetto un intervento di sopraelevazione e in tutti questi casi si è detto l'attenzione del progettista deve essere ancora maggiore laddove si va a incidere su una struttura che deve essere valutata nella sua consistenza proprio per evitare che ci possano essere delle complicazioni di questo tipo e tante volte ci si trova di fronte a delle valutazioni oggettive del progettista nel senso che in un caso che si riferisce al terremoto della Campania e della Basilicata ci si è trovati di fronte a un'attestazione del progettista e direttore dei lavori che aveva dichiarato che la struttura non versava in condizioni di pregiudicarne la stabilità e aveva asseverato che le opere di manutenzione straordinaria descritte erano rispondenti alle norme edilizie di sicurezza di genti allora la ricostruzione che ha fatto la Corte di Cassazione va bene perfetto se è stato valutato che tutte queste opere rispettavano le norme di sicurezza però poi andando a vedere si è visto che non c'era stato un accertamento dell'idoneità statica dell'edificio non era stata approfondita la consistenza strutturale dell'edificio non era stata effettuata o disposta l'esecuzione di alcuna prova di carico e di resistenza su nessuna delle strutture portanti dell'edificio e quindi sulla base di questi dati si è detto non c'era nessun elemento per arrivare ad una dichiarazione di sicurezza dell'edificio altri soggetti che possono incorrere in responsabilità sono i costruttori l'accusa è quella di aver realizzato una costruzione senza l'osservanza delle cautele necessarie in un caso ad esempio vi era stata la consegna del manufatto senza il preventivo collaudo collaudo che diventava il presupposto necessario per la valutazione della correttezza dell'edificazione sulla base del progetto strutturale dell'edificio quindi su questa base è stata riconosciuta una responsabilità del costruttore le responsabilità tante volte si estendono alla pubblica amministrazione in particolare al sindaco e alle altre persone che operano negli uffici tecnici in uno di questi casi presi in considerazione dalla corte di cassazione il sindaco era un medico allora ci si è posti il dilemma nel senso che questa è stata la tesi difensiva che la giurisprudenza che la corte di cassazione non ha accolto si dice ma un medico anche se sindaco come fa ad avere quelle conoscenze tali da consentigli di intervenire addirittura per quanto riguarda il rischio sismico e su questo punto si è detto che al di là di quelle che possono essere le comuni conoscenze di qualsiasi soggetto nel senso che tante volte ci sono anche delle segnalazioni di possibili problemi di stabilità dell'edificio ma si dice una persona che ha scelto di rappresentare la cittadinanza nell'ambito della pubblica amministrazione se non ha una conoscenza personale deve utilizzare gli uffici dell'amministrazione che dirige per poter effettuare per poter avere tutti i dati per poter effettuare una valutazione sostanzialmente quello che viene chiesto al sindaco o agli amministratori e quello sono due le questioni che vengono fondamentalmente chieste ma una ovviamente di avere un panorama della propria città e di valutare tutti i segnali che ci possono essere per quanto riguarda possibile pericolosità al di là anche dell'evento sismico molto grave l'altro è quello sempre di rispettare le procedure sembra tutti voi direte che sto dicendo delle cose ovvie però tante volte il problema è quello di una celerità che va a scapito di un ordinato svolgimento del procedimento amministrativo nel caso del crollo di una scuola sempre all'Aquila qual era stato il problema ma il problema era stato che al di là del collaudo necessario il collaudo necessario non c'era stato c'era stato un rilascio di un generico certificato di agibilità della scuola ma laddove c'è una legge e una normativa che prevede un determinato requisito quali collaudo ovviamente non ci possono essere scorciatoie che possono portare ad una certificazione di valore inferiore perché in questo caso la responsabilità viene ad essere piena e questo concetto di responsabilità riguarda anche tutte le persone preposte agli uffici tecnici che particolarmente si sono occupate dell'iter procedurale e che magari hanno saltato qualche passaggio se se nell'ambito dell'edilizia civile non c'è un obbligo di adeguare la sicurezza degli edifici alla normativa in evoluzione quindi edifici che rispettavano le norme dell'epoca in cui sono stati costruiti mantengono ovviamente non richiedono un intervento di adeguamento da parte di determinati soggetti che sono debitori di garanzia nell'ambito dei luoghi di lavoro questo succede perché nell'ambito dei luoghi di lavoro ci sono delle disposizioni particolari che possono essere quelle del decreto legislativo 81 del 2015 sulla sicurezza dei luoghi di lavoro che stabilisce che il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi esistenti per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e in particolar modo quindi il rischio sismico per le conseguenze che può avere ma nell'ambito del rapporto di lavoro c'è una norma generale che è l'articolo 2087 del codice civile che stabilisce che nell'esercizio dell'impresa il datore di lavoro deve adottare tutte le misure che secondo la particolarità del lavoro l'esperienza e la tecnica sono idonee a tutelare la personalità fisica e l'integrità morale del prestatore di lavoro questa è una norma considerata aperta nel senso che non c'è una specifica disposizione da rispettare qualsiasi situazione di pericolo si possa essere valutata dal datore di lavoro deve essere tenuta presente l'abbiamo visto nel periodo della pandemia che sulla base di questa disposizione di carattere generale anche quello che non era un rischio per la generalità dei lavoratori perché poteva essere un rischio biologico è stato un elemento da tenere presente nella valutazione dei rischi poi superato attraverso i protocolli tutto quello che abbiamo vissuto molto recentemente quindi il datore di lavoro è titolare di una posizione di garanzia nei confronti del personale dipendente e deve adottare tutte le misure che secondo la particolarità del lavoro e l'esperienza della tecnica e allora il problema si pone nel senso che accertato questo fatto e che quindi deve essere valutato il rischio sismico c'è un problema anche di tempi in cui effettuare questa valutazione nel senso che il datore di lavoro deve farlo in modo immediato nel senso che quindi se l'oquificio risale a un'epoca in cui non erano conosciute determinate norme di sicurezza e successivamente l'evoluzione della tecnica ha consentito di stabilire che il rischio sismico può essere affrontato con determinati accorgimenti che tempo ha il datore di lavoro per mettersi per rispettare per adottare questi requisiti ha un tempo brevissimo e quindi deve immediatamente sospendere l'attività perché ovviamente il rischio abbiamo detto che sicuramente è prevedibile il terremoto non sappiamo però quando avverrà quindi deve immediatamente sospendere l'attività o può andare avanti anche qui si tratta di trovare un punto di equilibrio tra tutte le esigenze che sono quelle della salute e sicurezza che sicuramente sono prevalenti ma anche quella della tutela dei posti di lavoro che trova una tutela anche nella nostra costituzione attraverso gli articoli 1 gli articoli 4 quindi si tratta sempre di trovare un punto di equilibrio e come si trova questo punto di equilibrio anche qui non ci può essere una risposta generale ma va valutato caso per caso in relazione al carattere al grado di sismicità del luogo e al grado di degrado dell'edificio se si tratta di un edificio in condizioni di degrado chiaramente non si può andare avanti e se i soldi non ci sono anche qui la valutazione va fatta con un minimo di oculatezza nel senso che si deve vedere quali sono le disponibilità del datore di lavoro quali sono i costi quali sono le possibilità di giungere al credito per poter effettuare questi lavori mi accingo alla conclusione parlando delle scuole nelle scuole il rischio è particolarmente elevato se l'articolo 18 del decreto legislativo 81 prevede per tutte le amministrazioni determinati obblighi l'unica amministrazione che menziona esplicitamente è quella scolastica nell'ambito delle scuole di proprietà pubblica c'è una distinzione tra chi deve provvedere alla manutenzione degli edifici e chi invece deve farne una richiesta l'amministrazione proprietaria deve provvedere alla manutenzione degli edifici e il dirigente scolastico la scuola in quanto tale deve effettuare le relative richieste se ci troviamo dinanzi a un punto di contrasto nel senso che la scuola chiede e l'amministrazione non provvede cosa succede se la scuola anche per effetti normativa recente non ha questo obbligo di provvedere beh è quello che abbiamo detto prima quello che è stato accertato dalla giurisprudenza la corte di cassazione sentenza 2536 del 2015 laddove il pericolo è grave incondente nel senso che c'è proprio il pericolo di crollo la scuola va chiusa non ci sono vie di mezzo se sulla base degli elementi esistenti in particolar modo se ci sono state già delle scosse di terremoto e il discorso che ho fatto prima per quanto riguarda i datori di lavoro privato sia della dotazione di fondi anche qui l'amministrazione deve provvedere ma se si tratta di un piccolo comune che non ha le strutture non ha i fondi non ha i capitali necessari per provvedere deve ovviamente fare tutto quello che può fare cercare i fondi altrove ricorrere a chissà quali strumenti per poter simolare il necessario però nella peggiore delle ipotesi ovviamente deve comunicare alla scuola la verità non siamo in grado di effettuare quindi a questo punto vanno prese delle decisioni l'ultimo punto è proprio 30 secondi è quello della comunicazione l'abbiamo visto nel caso dell'Aquila ma è un punto generale la comunicazione dice la Corte di Cassazione deve essere trasparente se non abbiamo gli elementi per poter tranquillizzare la popolazione sicuramente non lo possiamo fare grazie grazie avvocato Megali c'è una variazione che mi è stata chiesta e autorizzata da chi da chi diciamo ne trave diciamo disturbo e il Massimiliano Pettorali Ghigliotti gli ultimi della giornata li facciamo parlare adesso perché per la necessità di Ghigliotti di liberarsi entro una certa ora visto che i tempi comunque si dilatano sempre Francesco eccolo qua allora introduce il presidente nazionale di AGEPRO l'importanza dei tecnici nell'attività di supporto al superamento dell'emergenza sismica e segue diciamo sempre in diretta cioè in remoto Paolo Ghigliotti consigliere nazionale AGEPRO Sisma 1873 evoluzione delle procedure e metodologie di intervento in contesti emergenziali sismici allora buonasera a tutti mi presento sono Massimiliano Fettorali e sono un geometra in questo momento praticamente rappresento un'associazione l'associazione nazionale geometri per la protezione civile è un'associazione riconosciuta al dipartimento nazionale di protezione civile ho con piacere visto stamattina la numero due del dipartimento nazionale di protezione civile la Titti Postiglione conosco e siamo insieme ormai da molto tempo per cui è una persona veramente di alto profilo tecnico e ringrazio ringrazio a NGV per aver organizzato questo evento ringrazio il presidente del collegio dei geometri di Belluno Paolo Vaccari che è un amico e mi ha permesso appunto di essere qua essere qua a cercare di rappresentare quello che sono e sia stata l'evoluzione dei tecnici ora io parlo per i geometri però un po' in generale per i tecnici forse noi siamo stati un po' più pionieri degli altri a intraprendere questo percorso e a capire o a cercare di far capire sin da io parlo degli anni 2000 che io ho iniziato da una situazione anomala i professionisti erano un po' visti si trattava come il volontario come un volontario generico e quindi i professionisti erano un po' guardati da lontano e mi hanno chiamato nel 2000 a predisporre questo per far capire un po' l'evoluzione e l'avvicinamento tra la protezione civile e i professionisti prima i volontari erano gli angeli del fango erano coloro che facevano un po' tuttologia e che l'evoluzione della protezione della bellissima macchina perfetta macchina di protezione civile sta cominciando ed ha cominciato da un po' di anni ad essere più specifica per vari settori e avere tanti ingranaggi che funzionano insieme anche comunque con delle specifiche quali le nostre professionali e quindi questo per dire che nel 2000 io ho iniziato con la guerra in Kosovo praticamente mi hanno mandato in Albania a predisporre i campi profughi per quelli che venivano mandati via da casa per la pulizia etnica praticamente e mi sono trovato davanti in ambiente stranissimo persone ci avevano dato a quattro giorni ci avevano dato un campo da 8000 profughi dove li costruivamo addosso il loro ritorno alla vita e quindi è stato emozionante emozionante sotto il profilo umano veramente è stato appagante nella loro tragicità dell'evento scusate anche il toscano è stato appagante però aver rivisto e ripartire quelle che erano la vita normale di persone appunto che avevano subito una guerra non state mandate via a me mi ha innescato praticamente questo desiderio di cominciare a cercare di dare un mio contributo a quello che è appunto il mondo della protezione civile e da pochi anni dopo il secondo avvicinamento è stato nel 2009 praticamente con il terremoto dell'Aquila e anche lì il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ha cominciato ad avvicinarsi ai professionisti fino ad arrivare al 2011 che nel 2011 il nostro Consiglio Nazionale ha deciso di deputare una parte importante di coloro che avevano queste sensibilità e queste conoscenze di deputare una parte importante alla protezione civile e ha deciso appunto di predisporre questa associazione nazionale di geometri quindi ha preso dal suo serbatoio di quasi 100.000 geometri coloro che avevano questa sensibilità per avviare questo percorso di conoscenza di specialistiche e infatti il nostro primo dal 2011 che ci siamo costituiti il nostro primo diciamo banco di prova è stato appunto il terremoto nel 2012 del centro Italia scusatemi dell'Emilia Romagna che ha visto un contributo importante dei professionisti tutti si parlava di quasi 1500 geometri 1400 ingegneri una marea di professionisti che davano il loro contributo e nella valutazione delle agibilità degli edifici e nella parte naturalmente dei tecnici che contribuivano a tutte quelle strutture tecniche per far attivare la macchina del poter ritornare o meno nelle case e credetemi a parte dell'esperienza tecnica importante con le conoscenze è un qualcosa che ti appaga anche a livello morale ti senti veramente il risolutore per alcune persone che gli dici ok puoi ritornare in casa di momenti emozionanti veramente sono da provare questo è per sensibilizzare forse il più possibile questa cosa terremoto centro Italia anche lì migliaia di geometri migliaia di professionisti che hanno operato e non ultimo l'Emilia Romagna di pochi mesi fa che anche lì decine e decine questo per dire appunto che i professionisti ormai sono diventati quel meccanismo che con il dipartimento nazionale di protezione civile fanno ormai parte di quell'ingranaggio ben costruito noi da qualche anno da un anno e mezzo abbiamo fatto un nuovo consiglio direttivo tra cui qui c'è il nostro consigliere nazionale Marco Pellizzari quello che precederà dopo di me il presidente del geometri Genova è un collega consigliere anche lui dove entrerà più nelle specifiche tecniche del tema di oggi questo per dire che a distanza di 12 anni che siamo nati era necessario tirare una somma e capire dove abbiamo fatto bene ma soprattutto dove dobbiamo migliorarci il dove abbiamo fatto bene è sicuramente la risposta tecnica che abbiamo dato nei momenti di emergenza quel far ritornare il sorriso alle persone quando era il momento e quel cercare di dare delle sicurezze a queste persone e soprattutto dare delle risposte tecniche ai coloro che erano attori poi dopo della riattivazione della vita nei luoghi danneggiati quello che abbiamo fatto meno bene è che ci siamo resi conto che c'è bisogno veramente di fare entrare nel tessuto sociale i professionisti e quindi per coloro che sono attualmente come se oggi noi dovessimo avere un problema di sicurezza facciamo il 112 chiamiamo i carabinieri o la polizia le prime sentinelle nei territori nei tessuti dovrebbero sapere che ci sono i professionisti quindi il sindaco che è il primo responsabile di protezione civile locale il prefetto che è il primo responsabile di protezione civile locale dovrebbe sapere che al momento in cui c'è qualche cosa qualche bisogno qualche necessità deve sapere che c'è in questo caso un collegio dei geometri un ordine degli ingegneri che hanno delle persone all'interno del proprio osservatorio che sono specializzate a fare quel tipo di lavoro lì e vorrei dire non solo nelle parti di emergenza e quindi uno potrebbe anche scongiurarle sicuramente ma ci sono tutta una serie di attività anche quelle che parlava l'avvocato prima che è la prevenzione perché noi siamo attori importanti di quello che è il costruito e dal danno solitamente è sempre arrivato il cambiare qualcosa i terremoti gli eventi ci hanno fatto cambiare tutta una serie di leggi per arrivare oggi a dire abbiamo fatto esperienza su quello che è accaduto basti pensare nella consuetudine non so qui sul territorio ma da noi si costruiva le ristrutturazioni dei tetti con i cordoni in cemento armato ci siamo resi conto e questi diventano dei martelli che cadono nella testa alle persone oggi questi cordoni in cemento armato quindi esperienza significa conoscenza l'esperienza ci dice che i professionisti sono fattore essenziale ed importante nel mondo della protezione civile e anche nella prevenzione ecco perché si parla di piazze di io non rischio che quindi è importante nelle scuole nelle scuole già noi come categoria entriamo nelle scuole per fare politica e sensibilizzazione e orientamento con professionisti che conoscono veramente e hanno le capacità di essere interlocutori fin dai bambini ad arrivare anche alle scuole superiori e quindi si parla di orientamento con le persone l'educazione è una cosa che porterà sicuramente a migliorare non a zerare il rischio perché il nostro territorio è sicuramente molto molto vulnerabile però comunque a migliorare tutte le volte quello che costruiamo detto questo ci siamo appunto guardati indietro e abbiamo comunque creato anche tanti percorsi formativi per tutti uno per esempio molto importante che passerà anche e vorrei spingerlo per quello che è la nostra parte di laurea è il disaster manager noi stiamo e abbiamo messo in piedi con il numero 2 del dipartimento di protezione civile il Vezio Galanti che attualmente insegna all'università di Firenze che è stato il numero 2 di Barberi e abbiamo predisposto un percorso un percorso formativo importante che arriverà a stabilire la figura del disaster manager il disaster manager è quella persona che naturalmente risponde tutte le volte che c'è bisogno ai momenti e di emergenza e di prevenzione anche a fianco a parte a tutte le realtà amministrative quant'era il tempo che abbiamo questo per dire che i professionisti ad oggi sono sicuramente un valore aggiunto all'interno del nostro percorso di disaster manager c'è un percorso formativo molto importante che è la pianificazione di emergenza e la pianificazione di emergenza è una realtà che tra l'altro un po' abbiamo copiato da quella che è la regione Veneto perché la regione Veneto insieme appunto alla regione Veneto dei professionisti aveva predisposto un corso formativo importante riconosciuto dalla regione Veneto proprio sulla pianificazione di emergenza e sapete bene io non so qua ma in Toscana l'anno scorso è stato stabilito 3 milioni e mezzo di euro per fare pianificazione di emergenza microzonazione sismica all'interno della microzonazione sismica c'erano le condizioni di emergenza che erano robe abbastanza semplici ma che economicamente non hanno non hanno avevano un valore importante c'era l'obbligo di farle però non essendoci agricoltura non sono stati spesi questi soldi quindi non è solo anche un rapporto con una professionalità a conoscere questa questa professione ma è anche appunto una realtà lavorativa importante che dovrebbe essere se conosciuta da sfruttare in tante realtà anche lavorative oltre a quelle a quelle umane noi appunto essendo un'associazione di volontariato riconosciuta insieme a quelle classiche blasonate di protezione civile vigili del fuoco ampas c'è anche l'associazione nazionale geometri unica associazione tecnica tra i geometri e tra la categoria io dico sempre siamo coloro che portano il tema che unisce e quindi è difficile anche negli ordini professionali trovare un tema che unisce ecco la nostra il nostro è un tema che unisce e quindi anche gli ordini nazionali sono ben predisposti a disperdere e spendere le proprie energie positivamente per questo tema quindi quello che è importante è che a livello nazionale ora siamo arrivati quella protezione civile sa che ci siamo dobbiamo riuscire ad entrare nel territorio nel tessuto in quelle consuetudini in quegli usi che è importante che i sindaci veramente quando hanno un problema di sicurezza chiamano le polizie e la sicurezza quando dovrebbero e dovranno avere problemi di altro genere relativi alla protezione civile dovrebbero sapere che i loro professionisti all'interno dei propri ordini professionali hanno sicuramente un bel serbatoio di professionisti preparati per dare a loro delle risposte concrete perché vi garantisco che quando succede qualcosa i sindaci sono nel panico e gli uffici tecnici altrettanto e avere nel proprio serbatoio chiamare il presidente del collegio dei geometri e dire ho bisogno gratuitamente hai questo soggetto che è preparato secondo me è un valore aggiunto quindi c'hai il valore aggiunto di essere un volontario è che tutti non vogliono non vogliono fare non possono fare questa materia perché è roba che viene da dentro e dall'altra parte è il know-how tecnico professionale che diventa una macchina da guerra in questa parte naturalmente di protezione civile questo era un po' in generale quello per dire qual è stata l'evoluzione da essere meri sconosciuti e anzi guardati con sotterchi si dice da noi dalla protezione civile e dal mondo del volontariato arrivare ad oggi ed essere per lo meno a livello nazionale parte importante integrante di quello che è la macchina di protezione civile dobbiamo essere bravi tanto penso di parlare a un pubblico di interlocutori professionisti dobbiamo essere bravi veramente a riuscire a far percepire che non sempre c'è bisogno dei professionisti quando c'è il danno ma lavoriamo molto prima per fare prevenzione è la prevenzione che aiuta si spende molto meno a fare prevenzione che a rimettere in piedi gli edifici e i disastri come il centro Italia che si parla di 30 miliardi di danni di quello che ha creato e forse sarebbe stato il caso di disperdere l'energia un po' prima grazie passo la parola a Paolo Ghigliotti che sarà più formativo di me era più raccontarvi quanto sono stati difficoltosi i passaggi per arrivare a definire la figura professionale ormai importante dentro il meccanismo della protezione civile grazie buongiorno a tutti mi presento Paolo Ghigliotti spero che la voce arrivi e anche le slide ci siano attendo solo un cenno di conferma grazie tutto perfetto prego grazie grazie ancora allora mi presento Paolo Ghigliotti sono un geometra libero professionista ligure della provincia di Genova ricopro un ruolo istituzionale essendo presidente del mio collegio di appartenenza in primo luogo ringrazio e mi scuso veramente con chi era in scaletta prima di noi ma purtroppo un impegno istituzionale che non posso delegare né derogare mi impone alle 5 e mezza purtroppo di abbandonare questo convegno convegno interessantissimo e mi scuso anche per il fatto di non essere potuto partecipare in presenza per lo stesso motivo che ho appena accennato un impegno istituzionale non vi nascondo la mia difficoltà oggi a parlare dopo i relatori che mi hanno preceduto e dopo i temi trattati davvero veramente interessanti e professionalmente molto elevati ci provo non vogliatemene quindi se potrei annoiarvi spero di no comunque l'argomento che mi è stato chiesto di trattare è l'evoluzione delle procedure e metodologie di intervento in contesti emergenziali sismici allora oggi siamo a ricordare un evento un evento che ha colpito distrutto Belluno e parte della propria provincia esattamente 150 anni fa ne abbiamo parlato lungamente io a tal riguardo voglio pubblicamente ringraziare INGV per l'attività che sta svolgendo per tutta la raccolta delle informazioni dati che pubblicamente vengono rese disponibili a chi ha interesse della materia per approfondire gli argomenti perché effettivamente quanto io ho acquisito prettamente l'ho acquisito attraverso la banca dati quindi informazioni assolutamente interessanti come è vero che è interessante come ci aveva anche accennato nella mattinata la dottoressa Cegner circa il fatto che dopo il sisma del 1873 immediatamente dopo fu costituita una giunta permanente composta da componenti della prefettura del comune della regia procura del genio civile vi chiedo di focalizzare proprio l'attenzione anche su questo argomento perché vedremo che con l'evoluzione bene o male comunque i soggetti o parte di questi sono rimasti gli stessi quindi vuol dire che già in allora c'era un'idea di gestione direttamente dell'emergenza in modo organico fra quelli che dovevano essere gli attori che più di altri potevano consentire il superamento di un evento critico come quello di un sisma i dati quindi che ci sono pervenuti e che ho acquisito proprio da INGV sono dati importanti dati che ci hanno permesso anche di individuare esattamente quanti edifici sono crollati quanti si sono resi necessarie le demolizioni e quant'altro l'unica cosa che magari talvolta può diciamo non essere percepita come tale è che purtroppo ad oggi c'è un uso purtroppo sbagliato di valutare un evento sismico in funzione prevalentemente dei morti e dei decessi che questo evento provoca apparentemente quindi 80 persone circa decedute a seguito del sisma del 1873 potevano sembrare poche però sono poche rispetto agli abitanti di allora se rapportati ad oggi il sisma poteva se usassimo una semplice parametrizazione aritmetica essere decisamente molto di più e di conseguenza questo sisma effettivamente per intensità stimata valutata è risultato effettivamente un sisma davvero di entità gravi ormai siamo in periodo estivo io come penso molti di voi magari sotto l'ombrellone utilizzano un giornale enigmistico e all'interno di azioni strane che uno riesce ad acquisire beh forse non tutti sanno che la protezione civile italiana ha davvero origini molto antiche questa mattina il professor Doglioni infatti ha evidenziato come nei primi 15-20 anni di storia il territorio italiano è stato sconvolto da una serie di eventi sismici di gravità importantissime e sempre stamattina la dottoressa Titi Postiglione ci ha ricordato che oggi è praticamente ricorre anche la ricorrenza del terremoto del Mugello del 1919 anch'esso accaduto il 29 di giugno questi terremoti hanno fatto sì che dal 1919 fino ragionevolmente al 1969 la macchina dei soccorsi chiamata a affrontare e superare quelli che sono gli eventi emergenziali era affidata principalmente al Ministero dei Lavori Pubblici perché questo? perché era considerato il Ministero dei Lavori Pubblici quello che forse più degli altri poteva disporre di attrezzature e risorse ricordiamoci infatti che il Ministero dei Lavori Pubblici è stato investito di tutta la ricostruzione post bellica e quindi aveva effettivamente una possibilità di mezzi superiore forse a qualsiasi altro Ministero del Governo italiano è ovvio che poi gli eventi sono continuati gli eventi disastrosi non solo sismici abbiamo ricordato anche questa mattina la diga del Vaillant l'alluvione dell'Arno e è giusto il terremoto del Belice che nel 1968 convolse un intero territorio a da riguardo spero che parta e spero che si senta un piccolo richiamo di quello che è praticamente il terremoto del 1968 un terremoto dove come possiamo vedere vedo di allargare un attimino lo schermo la ricerca dei superstiti era veramente una cosa molto empirica prettamente portata avanti o da esercito o da vigi del fuoco in allora praticamente quindi l'organizzazione dei soccorsi era particolarmente difficile non vi tedio oltre ma era per capire come era affrontata in allora un'emergenza sismica quindi con mezzi un po' poco organizzati alla ragion veduta quindi il legislatore è intervenuto e nel 1970 perché è un po' prassi sicuramente italiana che dopo un evento nasce la legge che cerca di porre rimedio a questo evento nasce la legge 996 norme sul soccorso e l'assistenza delle popolazioni colpite da calamità e si parla di protezione civile dal ministero dei lavori pubblici passa la gestione delle emergenze al ministero dell'interno questo perché perché si è immaginato che effettivamente solo chi avesse il polso di tutti gli altri ministeri quindi potesse richiedere l'intervento delle forze gestite da ogni ministero dal ministero della salute al ministero della difesa eccetera vale a dire il ministro degli interni potesse gestire al meglio per gli interventi per il superamento di un'emergenza e in epoca chiamiamola di pace pianificare e organizzare gli eventi altro evento sismico perché segnalo quello dell'Irpinia perché la legge che abbiamo appena letto la legge 996 in realtà demandava a un regolamento un regolamento che è stato promulgato esattamente undici anni dopo vale a dire ci fu nel frattempo il terremoto dell'Irpinia del 1980 che ancora il governo non era stato in grado di organizzare il regolamento di attuazione della legge e nel 1980 epoca in cui avvenne il terremoto dell'Irpinia emersero una serie di gravissime criticità ricordo che era l'epoca ancora giusta della guerra fredda dove essendo i soccorsi prettamente impostati sull'esercito e l'esercito era presidiare il confine con la Jugoslavia dovete attraversare l'intera Italia per raggiungere i luoghi terremotati con un'enorme difficoltà addirittura in alcune situazioni ci vogliono veramente quattro giorni per raggiungere i soccorsi a te riguardo un altro piccolo inciso video ma che ritengo che possa essere utile e a teatr a teatr a teatr Quindi come capite addirittura in allora fu praticamente visto i responsabili di questo ritardo e furono colpiti. Tant'è vero che il DPR 6681 che poi fu il regolamento di attuazione della legge 996 del 1970 praticamente conferiva al prefetto diciamo quello che era il soggetto di riferimento per quanto attiene la gestione dell'emergenza, quindi predisporre il piano di emergenza provinciale, di protezione civile, addestrare e istruire il volontariato e coordinare il soccorso. Ai sindaci ancora aspettava la gestione ma non l'autonomia decisionale per cui il sindaco doveva necessariamente interfacciarsi sempre col prefetto prima di ogni eventuale decisione, sempre col decreto presidente della Repubblica 66 leggiamo le prime sigle, la nostra gestione dell'emergenza, il nostro sistema è ricco, ricchissimo di sigle. Ora qua ve ne faccio vedere due ma vedremo poi successivamente altre sigle importanti per chi opera abitualmente nei terremoti sono normali, però ritengo che anche a tal riguardo un professionista che si avvicini al mondo della protezione civile deve necessariamente prepararsi prima e adeguatamente, anche per essere pronto a capire come funzionano le catene di comando in fase di emergenza. Dicevo, le prime sigle sono il centro di coordinamento dei soccorsi, il CCS e per la prima volta leggiamo il centro operativo Misto.com che è tuttora in uso. Passano gli anni e esce l'istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile, finalmente si ha il giusto riconoscimento di quella che è l'autorità che è chiamata a gestire e superare le emergenze. Quindi articolo 1, lo richiamo sempre perché è fondamentale, è lo scopo, quello di tutelare la vita, dell'integrità dei beni, degli insediamenti, nonché dell'ambiente dai danni pericoli derivanti sia da calamità naturali, catastrofi ed altri eventi calamitosi. È il Presidente del Consiglio dei Ministri che deve gestire il Servizio Nazionale di Protezione Civile. La legge 225 praticamente ha posto quattro cardini fondamentali. All'articolo 3 infatti si parla di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza. Quest'oggi abbiamo sentito tantissimo parlare di prevenzione, previsione dei danni, degli eventi scusate, e soprattutto la gestione di quella che è l'attività di soccorso nell'immediatezza dell'evento emergenziale. Tra i soggetti chiamati ad operare, come vedete, rimane da seguire una regola abbastanza nota per chi è all'interno di un sistema di protezione civile come il nostro. Deve infatti conoscere che vi è un livello di emergenza comunale, e quindi gestito localmente dal centro operativo comunale. Viene uno di carattere provinciale, che è gestito normalmente da un centro di coordinamento soccorsi, o superiore da un centro operativo regionale, o ancora da un centro operativo misto che raccoglie più comuni, e al di sopra abbiamo il livello nazionale con la DICOMAC, che abbiamo sentito tutti più e più volte citare in casi di emergenza sismica e non solo, il comitato operativo e Sala Situazione Italia, la Commissione Grandi Rischi, che è un organismo consultorio. Cosa dire? Parliamo di come è gestita l'emergenza. Oggi abbiamo trattato anche in parte l'Aquila e successivamente l'Emilia. Abbiamo capito come nell'evoluzione la figura professionale sia sempre maggiormente presente nella gestione e nel superamento dell'emergenza. All'Aquila effettivamente sono state le prime schede AIDES utilizzate sostanzialmente per valutare le condizioni e le stabilità degli immobili colpiti dal sisma. Nel 2012, nuovamente, come ha ricordato bene precedentemente il nostro presidente della nostra associazione di volontariato, oggi però c'è stato il battesimo della nostra associazione assieme ad altri volontari professionisti dell'Ordine degli Ingegneri, Architetti e Geologi, tal che si è resa necessaria da parte del governo la costituzione del Nucleo Tecnico Nazionale. Cioè si è capito effettivamente l'opportunità che il contributo fornito dai professionisti in emergenza era sicuramente un contributo di cui se ne doveva strutturare e beneficiare al meglio in caso di emergenza. Appena creato il Nucleo Tecnico Nazionale, nel 2016 nasce l'emergenza del Centro Italia, un'emergenza che ha dei connotati unici rispetto a tutti quelli che fino ad oggi eravamo usi vedere, perché anche l'Aquila e anche l'Emilia erano momenti particolarmente comunque circoscritti, nel senso che avevamo realtà di sismi che colpivano zone relativamente contenute. una città, esempio l'Aquila e il suo contorno. Quello che è successo invece in Centro Italia, partendo dal sisma che ha colpito accumuli, Arquata e Amatrice, il 24 agosto del 2016, è stato solo l'inizio di una sequenza di violentissimi sismi, perché dopo il 24 agosto c'è stato il 26 ottobre ossita e ancora di più in termini di intensità, Norcia-Preci il 30 ottobre 2016, per poi concludere il 18 gennaio 2017, ho citato solo i terremoti più ovviamente importanti, perché quotidianamente, come abbiamo visto prima e come ci è stato riferito, si rilevano tantissimi sismi durante ogni giornata dell'anno. Questi quattro sismi si sono sovrapposti e hanno colpito una zona relativamente contenuta. A ciò si è aggiunta poi un inverno gennaio 2017 con una eccezionale nevicata, ricorderemo infatti il 18 di gennaio il sisma, a seguito poi del quale ricordo purtroppo la tragedia di Rigopiano, e non solo gli incendi dell'estate del 2017. Mi ricordo ero a Montorio Osumano, dovevo consegnare le schede per dei sopralluoghi svolti, e purtroppo il comune era occupato ad affrontare un'emergenza, incendi non da poco. Quindi questi insiemi di eventi hanno fatto sì di stressare in modo diciamo violento la macchina dei soccorsi, perché di fatto il sisma ha colpito in allora 140 comuni e ha investito quattro regioni e ogni regione ha poi una propria gestione in autonomia dell'emergenza. Tutto questo ha fatto sì che ovviamente in fase di avvio di emergenza si è costituita, si è insediata a Rieti, la Dicomac, dopodiché ogni regione aveva la propria gestione, come vedete il Lazio attraverso COC e COM, l'Abruzzo attraverso il centro operativo regionale, l'Umbria attraverso il centro coordinamento soccorsi, e nelle Marche si era aperta una sala operativa integrata. Come vedete, ma giusto per capire il perché stiamo parlando di questo argomento, il 13 settembre 2016, vale a dire neanche due settimane dall'evento di Amatrice, a Rieti 150 volontari professionisti tra architetti, geometri, ingegneri, geologi si sono ritrovati e hanno iniziato tutta un'attività volta al censimento dei danni, alla verifica post-sisma della vigibilità degli immobili. Questo è andato avanti in modo rapido e veloce, se non che degli 80.000, quasi 80.000 richieste di sopraluogo arrivate a seguito del primo sisma, si è sovrapposto il terremoto di Norcia, un terremoto di magnitudo superiore e di conseguenza tutto quanto svolto in precedenza necessariamente doveva essere rivisto. Quindi si è più che duplicato la richiesta di intervento e pur duplicandosi la richiesta di intervento a distanza di due mesi la forza dei professionisti è iniziata un po' a cedere. Questa situazione ha fatto sì che in termini numerici l'emergenza del centro Italia si sia protratta per lungo tempo proprio perché non c'era sufficienti ricambi in termini di turnazione tra i professionisti che intervenivano nelle zone colpite dal sisma. Come vedete il contributo delle professioni tecniche è un contributo enorme soprattutto per quelle che erano le attività finalizzate all'accertamento degli immobili alle verifiche post-sisma AIDES o FAST. Mentre la nostra associazione AGE Pro assieme all'associazione Lares si sono più che altro concentrati essenzialmente sulla gestione, sul supporto e il coordinamento dei COC e dei COM locali. Quindi attività sicuramente che ha coinvolto una quantità numerica di professionisti enorme. Questa situazione però di proporzioni enormi ha fatto sì che con legge del 16 marzo 2017 numero 30 sia stata data delega al governo per il riordino di tutte quelle che erano le disposizioni in materia di protezione civile. ed ecco che è stato promulgato il decreto legislativo 1 del 2018 chiamiamolo testo unico comunque è il nostro decreto oggi di riferimento la norma attuale di riferimento relativamente snella articolata in 50 articoli suddivisi in 7 capi che mantiene quella peculiarità e quella finalità iniziale che abbiamo visto già con la legge 225 e che chiarisce all'articolo 13 chi sono i soggetti che possono e che su cui il sistema di protezione civile può contare quindi oltre ai vigili del fuoco abbiamo sempre le forze armate le forze di polizia e si aggiungono ovviamente enti di ricerca l'ingv soccorso ma anche l'associazione di volontariato quale ad esempio la nostra e accanto a questa viene chiarito all'articolo 13 comma 2 la possibilità di parte degli ordini e dei collegi professionali di dare il proprio contributo attraverso che cosa? attraverso delle convenzioni da lì è nata la struttura tecnica nazionale struttura tecnica nazionale comunemente chiamata STN è stata costituita il 6 febbraio del 2020 alla presenza dell'allora capo dipartimento dottor Angelo Borelli tra i quattro ordini ingegneri architetti geologi e geometri tuttora attiva attiva con una serie di eventi di formazione che ha portato sì alla diciamo la creazione di nuovi tecnici qualificati AIDES per cercare di creare quelle basi in grado di poter affrontare anche eventi come si sono verificati quelli del centro Italia vado a chiudere perché non voglio portare via ulteriore tempo ma dal 1873 ad oggi diamo un'occhiata effettivamente a cosa cosa è cambiato allora nel 1873 abbiamo visto che c'era una giunta permanente costituita da prefettura regia procura comune genio civile oggi bene o male la protezione civile è quella che gestisce è la giunta permanente al cui interno comunque cooperano e lavorano in sinergia sempre la prefettura i comuni i vigili del fuoco l'esercito servizi sanitari enti di ricerca e volontari quindi come vedete sono aumentati il numero dei soggetti che sono chiamati ad intervenire per aiutare e superare le emergenze ma sostanzialmente l'impianto era quello che in origine era e se andiamo a vedere nel 1873 da quella immagine che ho visto stamattina ecco carpito durante la presentazione oggi ci sono le tendopoli magari sono sicuramente strutturati in modo più organico ottimale e più funzionale però il principio è rimasto lo stesso in caso di emergenza tutti fuori ricordo l'emergenza nell'emergenza era a Pieve Torina a gennaio del 2017 proprio durante la nevicata dove la tenso struttura che era l'unico centro di aggregazione era stata dichiarata da vigile fuoco inutilizzabile per il carico neve sopra e il sindaco non sapeva esattamente dove collocare i propri cittadini questo per dire l'emergenza nell'emergenza nel 1873 ho sentito quest'oggi il fatto che il legname scarseggiasse effettivamente le poche foto che sono riuscite ad acquisire fanno vedere alcuni puntelli oggi cosa si fa ebbè oggi si fa lo stesso ci sono gli puntelli sicuramente magari studiati e fatti in maniera leggermente diversa e più precisa è piacevolissimo ed è bello vedere che i vigili del fuoco marchino e segnino i propri presidi e le proprie opere provisionali che normalmente vanno a realizzare accanto ai classici puntelli linei o eseguiti con tubolari metallici abbiamo visto già dall'Aquila tutta una serie di presidi dove le strade non consentono ovviamente la realizzazione dei puntelli presidi che garantiscano la conservazione e la tenuta dei fabbricati in ultimo quasi ultimo verifica di agibilità oggi c'è la scheda AIDES la scheda che ha diciamo che consente la valutazione post-sisma di un immobile cioè capire se un immobile ha modificato le proprie capacità dissipative a terra dei propri carichi a seguito di un evento sismico già sulla scheda AIDES io credo e sono convinto che ci saranno nuove modifiche quantomeno sulla stesura non più forse in carta ma in via telematica che sicuramente agevolerebbe e non poco riducendo i cosiddetti tempi morti necessari ad andare a consegnare a discutere le singole schede una volta compilate in ultimo ne ha parlato questa mattina Titi Postiglione proprio ieri si è dato avvio il 28 giugno proprio con la Toscana al AT Alert che è un sistema innovativo partito proprio dal concetto che è vero che più o meno tutti noi abbiamo siamo registrati sui nostri portali regionali di allertamento allertamento meteo via discorrendo però se io mi dovessi trovare o in vacanza per lavoro in Puglia del fatto che ci sia in corso un evento meteo avverso a Genova probabilmente poco potrebbe interessarmi mentre invece per me sarebbe molto utile conoscere la situazione emergenziale eventualmente nella regione in cui sono il concetto di IT Alert è proprio quello segue in funzione della cella in cui si trova il cellulare l'avvio delle eventuali segnalazioni di emergenze ovviamente come vedete non è segnata l'emergenza sismica perché per i concetti che ben sappiamo non si può prevedere mentre può essere previsto il maremoto generato da un sisma per tutte le altre sono ovviamente emergenze che possono quantomeno con un minimo di preavviso essere comunque individuate io non vi tedio oltre vi ringrazio davvero per la disponibilità e la pazienza che ci avete accordato anticipando il mio intervento e quello del collega Pettorali e vi ringrazio ancora e mi scuso nuovamente per non essere potuto intervenire in presenza quest'oggi tolgo la condivisione dello sforzo allora grazie buongiorno a tutti prima di tutto vorrei ringraziare ovviamente gli organizzatori di quest'oggi del Veneto che mi ha invitato a fare questa chiacchierata io ho impostato e scelto di parlare di paliosismologia questa mattina è passata un pochino il dottor Burratto ne ha parlato un pochino ma oggi approfondire cioè adesso vorrei approfondire un attimo il tema perché è un tema che prima di tutto coinvolge l'ordine cioè i geologi professionisti che devono confrontarsi con la microzonazione sismica in particolare ovviamente penso sia interessante vedere i risultati che abbiamo ottenuto in Friuli e in Veneto come gruppo di ricerca un po' allargato ma insomma dell'Università di Udine proprio sulla ricerca fatta su faglie attive che vedremo spesso e volentieri raggiungono anche la superficie allora io ho impostato il mio intervento in questi quattro parti vedremo velocemente che cos'è la paliosismologia e poi mi soffermerò un attimo sul metodo paliosismologico perché è fondamentale capire che la paliosismologia non si può fare così in modo superficiale ma ha bisogno di un metodo multidisciplinare e multiscala per essere adeguatamente sviluppata e in particolare la paliosismologia potremmo dire che è quasi come una ciliegina sulla torta cioè l'ultima delle cose che bisogna fare e prima bisogna avere fatto tutta una serie di operazioni importanti vedremo i limiti però e i problemi dell'approccio paliosismologico che sono limiti e problemi che sono innati diciamo così nell'approccio ma che possono essere migliorati o peggiorati a seconda delle condizioni contingenti e poi vi presenterò tre esempi del nostro cioè delle ricerche che abbiamo fatto sviluppato in ambito veneto e friulano vabbè allora prima di tutto vediamo un po' cos'è la paliosismologia paliosismologia studia gli eventi del passato abbiamo detto gli eventi sismici del passato con un intervallo temporale che è maggiore sicuramente maggiore di quello della sismologia storica e infatti andiamo ad analizzare terreni che sono palioscenici superiori olocenici fino ovviamente allo storico e la diciamo che la principale tipologia di indagine paliosismologica è la famosa trincea paliosismologica che viene effettuata praticamente con uno scavo che attraversa quella che si si pensa possa essere la 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 faglia che si deve studiare e chiaramente già già queste parole già da queste parole capite che noi dobbiamo sapere esattamente dove passa questa superficie di faglia non possiamo permetterci di avere un'approssimazione troppo elevata e quindi come farò vedere successivamente ci devono essere a monte tutta una serie di indagini preliminari che permettano di non dico azzerare perché azzerare è impossibile ma di limitare notevolmente l'incertezza dell'analisi che cosa ricaviamo dalle analisi paliosismologiche sono questi tre parametri utilissimi importantissimi per la definizione del potenziale sismogenico di una faglia e cioè l'ultimo evento di attivazione il tempo di ricorrenza di questa faglia ogni quanto mediamente questa faglia si può muovere e poi il rigetto per evento tutti questi tre elementi questi parametri sono importanti ripeto per la parametrizzazione della faglia in termini di potenziale sismogenetico e quindi ovviamente anche di pericolosità di valutazione della pericolosità sismica vediamo al metodo allora il metodo io qua ho costruito una specie dovete vedere alla vostra sinistra non è riuscita molto bene ma è una specie di torta a strati nel senso che c'è un primo strato che vi mostra sostanzialmente quello che è il percorso che bisognerebbe fare per arrivare poi alla realizzazione di una trincea paliosismologica o comunque di uno studio paliosismologico quindi ovviamente partendo da una raccolta di dati bibliografici e di sismicità storica dobbiamo andare se possibile ovviamente quando possibile andare a vedere se ci sono delle linee sismiche profonde che ci possano dare l'assetto strutturale delle faglie della faglia che stiamo studiando ma non basta questo nel senso che spesso e volentieri le linee sismiche industriali sono non dico tagliate ma sono quasi illegibili nella parte superficiale cioè quella che serve alla paliosismologia e quindi bisogna fare un rilevamento è necessario avere la pazienza di fare un rilevamento geologico classico un rilevamento geologico strutturale abbinato a un rilevamento della geologia del quaternario perché senza geologia del quaternario non si va da nessuna parte con la paliosismologia vedremo l'importanza negli esempi che vi faccio abbinati a questi molto importante è un'osservazione uno studio morfotettonico perché così solo così noi riusciamo a come diceva questa mattina dottor Burrato a vedere se esistono effettivamente delle manifestazioni delle evidenze delle anomalie morfologiche della superficie che possono essere legate all'attività della faglia che noi stiamo analizzando solo in questo momento possiamo quindi vedete che stiamo restringendo notevolmente la scala di azione solo in questo momento noi possiamo intervenire con indagini geofisiche diciamo più leggere più superficiali come la tomografia elettrica la sismica rifrazione riflessione o ad esempio il georadar che sono hanno efficacia forse diversa a seconda del tipo di substrato che andiamo ad analizzare queste indagini geofisiche ci 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 aiutano a validare le osservazioni che abbiamo fatto dal punto di vista geologico e ovviamente ci aiutano a restringere ancora di più quella che è l'incertezza di dove puoi andare a fare la trincea paleossismologica quindi come vedete l'ho messa in rosso proprio perché dovrebbe essere una ciliegina alla fine di tutto questo percorso quindi la trincea paleossismologica lo studio paleossismologico ha bisogno dietro di tutto un gruppo multidisciplinare che va appunto dalla geologia classica la geologia strutturale quella del quaternario la geofisica l'esperto di paleossismologia l'esperto di topografia perché dobbiamo sapere esattamente dove siamo e poi anche l'informatizzazione dei dati è chiaro che ci sono però dei problemi è molto complesso quindi la cosa ci sono dei problemi dei limiti a questo tipo di approccio a mio parere in particolare vorrei sottolineare quelli dell'area veneto-friulana quindi dell'area compresa dell'area che è interessata dal fronte sudalpino orientale di cui abbiamo Tina e che è dato da sovrascorrimenti a medio basso angolo medio angolo sudvergenti che un pochino alla volta si stanno propagando anche nella pianura veneto-friulana e che rappresenta quindi questa fascia prealpina veneto-friulana rappresenta effettivamente la parte più sismica più attiva dal punto di vista appunto della sismicità quali sono i problemi che effettivamente si ha si hanno per applicare queste tecnologie a questo tipo di contesto geodinamico allora noi siamo una catena a basso tasso di deformazione adria più o meno si muove di 2-3 millimetri all'anno quindi non abbiamo grandi le strutture sono tutte segmentate non sono un'unica struttura che va da Vicenza fino a Udine ok ma sono tutte come vedete segmentate in segmenti di varia grandezza che vanno ovviamente dai 10 ai 20 chilometri e poi le strutture normalmente ma normalmente questo lo sottolineo ma non sempre sono cieche cioè non affiorano in superficie ma stanno sotto queste strutture queste strutture che stanno al fronte della catena sudalpino orientale sono usualmente sotto stanno usualmente sotto alle coltri quaternari della pianura quindi questi sono dei grossi limiti oggettivi mettiamoci degli altri limiti che sono molto importanti invece per una come abbiamo visto prima la disomogeneità della presenza diciamo la disomogeneità della cartografia geologica aggiornata nel senso che una cartografia che la cartografia che serve per fare un discorso paleosismologico sismo tettonico e poi paleosismologico è una cartografia che deve tener conto di un aggiornamento della geologia del quaternario e della tettonica questo si ha mediamente solo in un progetto CARG cioè cartografia geologica nazionale queste sono in se andate nel sito dell'ISPRA vedete quali sono questo è il friuli quali sono i fogli in realizzazione questi verdi quelli già realizzati in 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 rosso poi c'è il gemone che è realizzato ma non pubblicato e vedete come i rettangoli che vi segnano l'area di maggiore deformazione bene o male sostanzialmente sono abbastanza coperti perché anche in realtà anche il Cividale esiste a livello della regione friuli Venezia Giulia mancherebbe solo l'Aviano la parte di Aviano se invece andiamo in Veneto la situazione è un pochino più diciamo complessa diciamo da questo punto di vista perché i i fogli CARG che dovrebbero prendere l'area più ballerina cioè quelle il fronte del sudapino orientale che abbiamo visto prima che passa tutta la zona pedemontana sostanzialmente in realtà non ci sono e quindi l'aggiornamento dal punto di vista della geologia diciamo geologia generale geologia del quaternario e tettonica diciamo che è un po' lacunosa l'unico foglio che è partito attualmente è il Vittorio Veneto per il resto non ci sono quindi questo è un altro problema contingente cos'è che possiamo prendere al posto di questa cartografia che ricordo è al 50.000 ma viene rilevata al 10.000 e quindi con un grande dettaglio al loro posto possiamo prendere ad esempio le vecchie cartografie al 100.000 che però non hanno sicuramente un aggiornamento né del quaternario né della tettonica possiamo prendere la carta neotetonica d'Italia che però ha una scala al 500.000 il modello strutturale la carta geologica del Veneto che è al 250.000 oppure alcuni lavori molto interessanti e di base ma che però hanno delle mappe allegate con delle scale assolutamente improponibili per un discorso di paleossismologia che vuol dire ripeto trovare esattamente dove sta alla faglia anche Galladini 2005 ha una mappetta a scala improponibile pur avendo segmentato tutte le strutture presenti oppure ci sono carte a grande scala ma non finalizzate alla geologia del quaternario né alla tettonica recente oppure ci sono cartografie come quella di Venzo del 77 locali se volete ma insomma finalizzata una geologia del quaternario ma senza la tettonica quindi diciamo che il geologo professionista ha un po' di difficoltà nel reperire dei buoni dati aggiornati per fare una microzonazione di terzo livello ad esempio studiare una facca poi c'è il catalogo Itaca che sembra sempre la panacea di tutto quanto in realtà per la zona veneto-friulana è stata fatta una collezione di faglie che sono è tutto da dimostrare che siano capaci sono faglie diciamo per due terzi metà probabilmente anzi sicuramente attive non è detto che tutte siano neanche attive è stato preso la collezione è stata fatta da cartografia più o meno aggiornata ed è stata messa qui dentro ma non sono faglie capaci quindi un altro problema del geologo è reperire dati attendibili nel riuscire a svolgere questo tipo di indagine faccio solo un esempio velocissimo apro una parentesi per esempio in Friuli la regione Friuli-Venezia-Giulia ha portato tutte le università di Trieste di Udine e l'OGS ad un tavolo unico e ci ha chiesto di mettere sul tavolo a disposizione dei geologi professionisti ma anche ovviamente della comunità scientifica tutti i dati che avevamo sulla fagliazione attiva sulla neotettonica sulla tettonica attiva e da ciò è nata un database degli indizi delle faglie attive che poi possono servire al geologo professionista per ricostruirsi l'andamento di una faglia o di un gruppo di faglie cioè cosa abbiamo fatto abbiamo dato alla regione tutti gli indizi tutti quei elementi puntuali ed areali che indicano che ci indicano una deformazione diretta o indiretta della superficie topografica quindi possono essere geologici una superficie di faglia geofisici l'interpretazione di linee sismiche per esempio morfotettonici il basculamento di una superficie o paliosismologici e ciascuno di questi indizi mostra anche l'attività che ha avuto durante appunto la storia cinque minuti no no allora vado avanti comunque no vado avanti ok questo lo togliamo ultimo problema è che i terremoti sono terremoti grossi quindi quelli che potrebbero darci un'indicazione sulla sorgente su chi si è mosso veramente sono per lo più storici e quindi abbiamo di questi abbiamo solamente solamente è importante un dato molto importante a quello macro sismico vediamo degli esempi allora partirei da un esempio in Friuli siamo nella zona pedemontana friulana la zona tra Maniago e Meduno questo era un progetto sempre della regione Friuli Venezia Giulia insieme a Dispra e l'università di Udine poi si sono sono stati coinvolti anche rappresentati di NGV e di OGS cosa cosa mirava questo progetto testare uno schema metodologico per studiare le faglie attive capaci cioè la fine della fiera allora vado un pochino veloce siamo appunto al fronte della catena sudalpino orientale in questa zona quindi siamo in questa zona qui ci sono delle faglie inverse attive che deformano la superficie topografica che risale all'ultimo massimo glaciale quindi a un'età di circa 18.000 anni che però mostra appunto evidenze molto interessanti di deformazione due sono i terremoti storici che sono riferibili a quest'area 1776 1794 cosa è stato fatto come dicevo prima metodo d'agini preliminari quindi osservazione interpretazione di linee sismiche la linea sismica mostra che la base del quaternario è rigettata tagliata e la faglia si si propaga ben oltre la base del quaternario in poi secondo secondo step rilevamento geologico e morfotetonico di terreno con individuazione della faglia geologica e osservazione che questa faglia disloca la base dell'LGM di circa 20 metri quindi uno slip rate degli ultimi 30.000 anni di circa 0,5-0,6 millimetri anno osservazione morfotetonica in corrispondenza di questa faglia che voi vedete qui lungo il Meduna c'è una grande vedete su questo terrazzo LGM c'è una 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 scarpata che è questa qui quindi individuata molto bene dalla morfotetonica su questa scarpata abbiamo fatto una serie di transetti di geofisica questi sono solo degli esempi che ci mostrano effettivamente che in corrispondenza della scarpata c'è un disturbo di origine probabilmente tettonica quindi sismica riflessione l'ERT l'inversione tomografica il georadar hanno detto tutti la stessa cosa e quindi su queste su queste basi abbiamo fatto due trincelle paleossismologiche attraverso la la scarpata trincelle paleossismologiche che hanno evidenziato la presenza di una fascia di deformazione abbastanza abbastanza ampia tutto sommato che deforma terreni anche molto recenti addirittura nella seconda nella seconda trincea abbiamo questa questa fascia di deformazione che entra a dislocare il un terreno datato attorno al 1300 1400 quindi anche in questo caso salto questa cosa qui è chiaro che la la conclusione è c'è una faglia sicuramente attiva che sembrerebbe anche capace che potrebbe passare attraverso la cittadina di Meduno nella microzonazione di terzo livello è chiaro che sarà utile andare a vedere se questo è vero secondo esempio credo sia interessante io vado avanti Follina siamo invece mi riallaccio a quello che diceva il professor Doglioni stamattina abbiamo fatto anche qui qui invece siamo dentro il progetto di microzonazione sismica proprio dei comuni di Follina Cison e Miane carta geologica al 10.000 abbiamo cercato di individuare attraverso la geofisica e la morfotettonica esattamente dove poteva passare la faglia che in questo caso è il segmento più orientale della faglia Bassano-Valdobbiadene e vi mostro quindi questa in verdi nei toni verdini sono tutti gli ERT che abbiamo fatto in collaborazione con i geologi professionisti anche qui presenti il dottor Lucchetta il dottor Olivotto e il dottor Marinoni e questa invece in rosso sono le due trincee che vi mostro la prima è attraverso la scarpata la tettonica ben evidente a Miane questa è la trincea che abbiamo scavato in giallo vedete le freccette della scarpata e quello che si vede è confermato anche dalla geofisica è la presenza di una faglia inversa nella zona proprio di scarpata adesso andiamo a vedere un pochino più da vicino faglia inversa che disloca i terreni dell'Olocene che vanno da circa 4.700 anni a 2.500 anni avanti Cristo se notate anche i terreni più recenti che però non sono stati datati potrebbero essere quasi sicuramente sono stati deformati dall'azione di questa faglia ci spostiamo proprio a follina a follina quasi centro anche perché in centro non si può scavare una trincea anche qui abbiamo evidenze di tipo geofisico con questo netto contatto abbiamo scavato questa trincea che vedete sotto che evidenza due zone di deformazione la prima che interessa una faglia inversa che interessa terreni datati di età storica quindi più recente ha circa 1200 anni ed è sigillata questa faglia da una da un riempimento antropico datato attorno al 1600 1700 1700 la stessa cioè la zona di deformazione non è solamente qui ma anche nella parte più meridionale della della trincea qui vediamo un'altra zona di minore deformazione data da queste faglie sempre inverse sembrerebbero ciotoli imbriciati invece in realtà la faglia si propaga anche dentro le sabbie e le ghiaiette e poi abbiamo invece un come si chiama un un dico di sabbie che taglia tutto quanto ed è sempre sigillato da quel livello antropico di cui abbiamo detto prima avere unità un'età attorno al 1600 1700 anche qui faglia attiva è capace che taglia follina qui Maurizio sa ben qualcosa l'ultimo esempio che vi faccio è una cosa molto recente della settimana scorsa in realtà un approfondimento che abbiamo fatto nella zona tra Viano e Budoia quindi torniamo di nuovo in Friuli qui siamo nella zona prealpina Carnica con questo fascio di faglie inverse attive eccoli qua abbiamo indagato la faglia Budoia Viano che deforma a sua volta che è questa qui e deforma a sua volta un conoide di età LGM ci sono bellissime evidenze morfotettoniche che sono questa scarpata e queste incisioni queste anomalie di drenaggio molto molto particolari l'approfondimento è stato di tipo di geofisico dentro al progetto PRIN 20 e abbiamo fatto tutta una serie di approfondimenti geofisici un DERT di circa 6 km nella zona di maggiore deformazione un EERT a 4 metri nella zona di maggiore vedete che sto sempre riducendo la scala nella zona di maggiore deformazione un EERT a un metro e il georadar e quello che è venuto fuori è questo allora qui abbiamo una faglia che in realtà è un retroscorrimento questo quindi non va verso nord è un retroscorrimento che deforma in modo spettacolare queste sabbie e questo suolo che cercheremo ovviamente di datare e che ha un rigetto superiore al metro è un metro e venti di rigetto cumulato finché volete ma è un metro e venti di rigetto allora questa è ovviamente una ah sì un'altra cosa importante la faglia sembrerebbe interessare anche la base del suolo agrario quindi questo è un po' rivoluzione diciamo quello che è il rivoluzione insomma mette in luce degli aspetti che finora sono stati abbastanza trascurati del fatto che anche nel sud alpino orientale noi possiamo avere faglie che tagliano quasi in superficie che deformano in modo molto profondo la successione tardo-plestocenica olocenica e quindi può avere un'importanza non indifferente sulla stima della pericolosità io vi ringrazio e vabbè basta grazie grazie stavo dicendo sono tre livelli la microzonazione il primo livello è il livello base e richiede una conoscenza del territorio a livello qualitativo poi c'è il livello 2 che è un approfondimento del livello 1 in cui si devono fornire dei parametri quantitativi e infine il livello 3 il livello 3 riguarda degli aspetti particolari cioè quando ci sono dei fenomeni di instabilità dei terreni e in qualche modo il livello 3 a volte coincide con quello che prevedono anche le norme tecniche per le costruzioni nel senso che per esempio si parla di risposta sismica locale nel livello 3 che è una cosa che viene contemplata anche delle norme tecniche secondo me la microzonazione è uno strumento molto potente perché se fatta bene può fornire una conoscenza del territorio comunale estremamente approfondita e dettagliata perché per ottenere dei buoni risultati bisogna arrivare a conoscere la struttura profonda e non solo quella superficiale del territorio e quindi analizzare o con dati progressi o con nuove indagini in modo approfondito i vari fenomeni che sono presenti per quanto riguarda il territorio diciamo bellunese e comunque montano e pedemontano è da dire che spesso bisogna arrivare al terzo livello della microzonazione questo perché perché il primo e il secondo livello sono relativi soprattutto a situazioni diciamo relativamente semplici cioè terreni omogenei stratificazioni del sottosuolo più o meno parallele senza grossa discontinuità senza comorfologie del substrato sepolto abbastanza uniformi nel territorio pedemontano e bellunese in particolare queste condizioni spesso non si verificano la microzonazione come è stato accennato stamattina va a cercare delle zone omogenee dal punto di vista della risposta sismica perché come si è visto ormai si sa l'amplificazione sismica dipende moltissimo dalle condizioni locali questo si è visto con quasi tutti i terremoti anche l'Aquila e in altri casi cioè edifici strutturalmente abbastanza simili e abbastanza vicini hanno comportamenti sismici diversi e questo perché il sottosuolo è diverso e quindi possono esserci delle amplificazioni locali molto diverse e la microzonazione in qualche modo cerca di mettere in luce quali sono queste differenze nel comportamento del sottosuolo in realtà il mio intervento potrebbe anche finire qui perché di fatto per microzonare bene bisogna studiare bene il sottosuolo questo è l'aspetto fondamentale detto questo è chiaro che bisogna agire di conseguenza e quindi arrivare a una conoscenza del sottosuolo il più preciso possibile questo è l'inciso principale per cui ecco io vi farò vedere due tre esempi di microzonazioni qui nella zona però questo vale per tutti i casi nel senso che noi dobbiamo riuscire ad arrivare a una conoscenza sufficientemente precisa della struttura del sottosuolo e dei parametri sismici che governano la propagazione delle onde sismiche inoltre io vi parlerò solo dell'amplificazione di quelle che si chiamano lito stratigrafici cioè quelle dovute alla costituzione del sottosuolo le amplificazioni dovute di fatto allo spessore alla caratteristica dei terreni di copertura che posano su un substrato rigido poi in realtà come si è già detto oggi i fenomeni sono anche altri e anche molto importanti ad esempio ci sono le frane sismoindotte c'è la liquefazione quello che ha fatto vedere la professoressa Poli le faglie poi possono esserci sedimenti differenziali e quindi la microzonazione abbraccia tutti questi aspetti io vi parlerò solo della parte di amplificazioni lito stratigrafiche vi faccio vedere due esempi di microzonazione in comune di Longarone dove insieme al collega Maurizio Livotto sono parecchi anni che stiamo facendo questi studi abbiamo fatto il primo il secondo e adesso stiamo facendo anche il terzo livello della microzonazione il terzo livello viene fatto perché a parte allora qui in Longarone ci sono tutti i problemi o quasi forse non c'è la liquefazione però abbiamo fenomeni di caduta massi perché è evidente insomma che con le pareti incombenti potenziali stiamo parlando di potenziali fenomeni di caduta massi sismoindotte però le pareti insomma sono abbastanza incombenti c'è anche il problema di faglie che stiamo studiando anche se è molto difficile vista la situazione geologica e poi c'è il discorso della valle allora in microzonazione si fanno una differenziazione tra valle strette e valle larghe ci sono dei parametri che stabiliscono valli sepolte dei parametri geometrici che definiscono se una valle stretta o larga se la valle viene definita stretta cioè lo spessore di fatto è molto importante si possono verificare dei fenomeni di amplificazione di bordo e questo comporta che non sono più applicabili i vari metodi semplificati tipo quelli che sono previsti la NTC ma bisogna arrivare a fare una risposta sismica locale per ottenere l'amplificazione del terreno o con modelli monodimensionali o come in questo caso trattandosi di fatto di una sezione 2D con modelli 2D cosa abbiamo fatto bisogna ricostruire la geometria del substrato che non è banale in questi casi perché qui per esempio nel centro della vallata a dire la verità prima di fare questi studi non si sapeva niente di che spessore poteva esserci di ghiaie quindi siamo partiti a fare un po' di indagini cercare un po' di dati ma i pozzi di solito sono profondi 20-30-40 metri insomma non di più mentre qui si va a spessori molto più importanti e abbiamo fatto delle indagini sismiche preliminari insomma per avere un po' un ordine di grandezza dello spessore abbiamo visto che probabilmente si parlava in centro valle di poter essere anche 200 metri di ghiaie a questo punto abbiamo programmato delle indagini allora beh la conoscenza generale scusate della geologia ma è relativamente semplice nel senso che c'è la valle del piave che è riempita da materiali prevalentemente ghiaiosi e poi intorno un substrato prevalentemente calcareo diciamo questo è il dato di base che deriva dai vari studi precedenti un po' aggiornati con cose ad hoc per vedere con una certa precisione la geometria del substrato è stata quindi programmata qua nella zona di Villanova che vabbè conoscete tutti è una zona industriale molto importante è stata programmata una sezione una linea sismica di sismica tomografica riflessione e rifrazione che ha dato questi risultati allora questa è una sezione in onda S e si vede bene fino a valori di 600-700 metri al secondo siamo in terreni di copertura dove si va a velocità superiori ai 1900-1000 metri al secondo è il substrato intanto si vede che sotto la piana alluvionale c'è questo gradino che è stata ovviamente una sorpresa probabilmente generato da una faglia inoltre si vede che a destra guardando la figura lo spessore della copertura diventa importante sono almeno 150 metri questo è il dato di base per poter effettuare una risposta sismica locale perché abbiamo la geometria e le velocità poi ci sono le velocità dei terreni poi ovviamente in una risposta sismica entrano dentro tutti quei dati di input che derivano dalle banche dati che abbiamo visto prima quindi la magnitudo le accelerazioni sono dati che noi professionisti ricaviamo dalle banche dati esistenti si crea una sezione 2D facendo dividendo il terreno per classi di velocità i punti che vedete lungo questa sezione si possono avere dove si desidera avere gli accelerogrammi di risposta sismica io vi farò vedere gli esempi per vedere come può cambiare la risposta sismica del terreno in funzione delle caratteristiche del sottosuolo nei punti chiamiamoli PB e PH per esempio intanto un primo elemento che che mostra come può variare l'amplificazione sismica lungo quella sezione è quello che si definisce un fattore fattore di amplificazione in pratica per periodi per intervalli di periodo prestabiliti un po' dalla normativa che vedete 0,1 0,5 secondi 0,4 0,8 0,7 0,1 bene calcolato questo fattore di amplificazione che in qualche modo è la stima dell'amplificazione non è l'amplificazione precisa ma è più o meno quanto rispetto all'accelerogramma di input il terreno amplifica l'onda sismica e vedete come questo fattore amplificazione è molto variabile sia in funzione del periodo che consideriamo e quindi ovviamente il periodo legato alla costruzione cioè l'edificato ha un suo periodo di oscillazione e in funzione della tipologia della struttura del sottosuolo vedete come a distanza di 200 metri dall'inizio della sezione cioè si vede si si legge l'amplificazione è abbastanza alta su tutti e tre i periodi poi va a scendere e man mano che lo spessore andando verso destra lo spessore vi ricordate della sezione lo spessore delle coperture alluvionali aumenta i fattori di amplificazione diminuiscono e questo già dà un'idea si calcolano si determinano questi gli spettri di risposta che poi di fatto sono l'input che servono agli ingegneri per dimensionare la la struttura ecco la cosa importante secondo me tra le altre è quella di vedere come quelli che vengono definiti gli spettri di normativa in alcuni casi possano essere comparabili con lo spettro chiamiamolo reale ottenuto dalla risposta sismica mentre in alcuni casi sono assolutamente inadeguati per esempio nel punto PB che era quello un po' all'inizio della sezione vediamo che lo spettro di categoria B che è quello che potrebbe essere dato per un terreno del genere in realtà sottostima per lo meno fino a un periodo di un secondo sottostima in modo abbastanza eclatante quello che è l'amplificazione sismica e questo mi sembra un fatto abbastanza importante nel senso che in certe condizioni l'uso dell'approccio semplificato può portare a delle differenze veramente notevoli nel poi nel dimensionamento delle strutture ecco qui ecco qui invece ho messo in evidenza come nei due punti che abbiamo scelto come cambia l'accelerazione cioè verso il centro della valle dove lo spessore delle alluvioni è più importante abbiamo delle accelerazioni generalmente più basse mentre all'inizio della sezione dove avevamo uno spessore di copertura alluvionale inferiore l'accelerazione sia molto più elevata questa era la sezione di Villa Nova poi prendo un altro esempio a Dogna Dogna è sull'altro versante di fronte a Longarone e qui abbiamo un terrazzo alluvionale ben evidente alto una cinquantina di metri rispetto all'alveo del Piave anche qui è stata programmata una linea sismica sempre tomografica riflessione e rifrazione per cercare di capire l'andamento del bedrock e le velocità delle onde sismiche questa è la sezione tomografica sismica che risulta scusate sono girati i numeri delle stazioni dei geofoni perché poi ho girato la sezione sismica comunque si vede bene come le velocità anche qui vagino fino a 800 metri al secondo sono le coperture alluvionali o fluvi alciali quel che è poi la roccia è stata individuata a profondità anche qui abbastanza notevoli solo in una parte poi della sezione a profondità che sono dell'ordine di un centinaio di metri anche qui abbiamo fatto una sezione sismica bidimensionale per valutare la risposta sismica del terreno ho individuato questi tre punti che sono abbastanza significativi in particolare guardate il punto pc che è ubicato in corrispondenza della scarpata ecco i fattori di amplificazione sono questi anche qui abbastanza variabili lungo la sezione in particolare vedete come nel punto chiamato pc ci sia un fattore di amplificazione decisamente più elevato per lo meno per due periodi considerati e questo è dovuto al fattore topografico cioè la topografia oltre che allo spessore della copertura alluvionale anche all'amplificazione generata dalla scarpata e questo chi fa questi studi in microzonazione sismica sa bene il fenomeno perché appunto tra le varie indicazioni che si devono dare da questi studi ci sono anche quelli di valutare gli effetti di scarpata perché vicino alle scarpate le accelerazioni generalmente sono maggiori questi sono i tre spettri ottenuti per questi tre punti di controllo vediamo anche qui come le accelerazioni nei tre punti siano abbastanza diverse tra loro vediamo come nel punto in particolare da notare come nel punto rispetto al punto pb il punto pc abbia uno spettro più o meno alto uguale come intensità di accelerazione ma come il periodo sia decisamente del plateau sia decisamente più ampio questo per effetto sia dello spessore delle coperture e sia per l'effetto della scarpata come vedete anche qui qui ho preso addirittura lo spettro di categoria C per riferimento che dovrebbe essere più cautelativo ma vedete che anche in questo caso lo spettro di categoria C è decisamente più basso tra virgolette rispetto agli spettri che otteniamo con la risposta sismica locale va precisato che i terreni qui sono ghiaiosi prevalentemente e anche confrontami con altri anche professori così dicevano anche loro che questo fatto che l'isprimormativa siano spesso più bassi ricade proprio per i terreni di categoria B o C cioè quando ci sono terreni ghiaiosi e gli spessori delle coperture non sono eccessivi perché quando andiamo su spessori molto elevati di copertura poi questa differenza si attena ma quando abbiamo spessori dell'ordine di qualche decina di metri 50 metri questa differenza tra gli spettri ottenuti con la risposta sismica e lo spettro B o C è abbastanza significativa infine vi faccio questi sono i tre spettri confrontati tra loro nei tre punti e vedete la differenza abbastanza notevole anche in questo caso infine vi faccio vedere un esempio tratto velocemente un esempio abbastanza emblematico anche qui di come è importante conoscere la geologia del luogo che deve essere studiato qui siamo a Belluno in centro praticamente dove siamo noi qualcuno probabilmente conosce molto bene questa situazione ma però mi preme evidenziare come il terrazzo dove sorge il centro storico di Belluno abbia veramente una peculiarità importante nel senso che si sa il corso del Piave è stato deviato una volta passava per il centro di Belluno più o meno dove è Piazza dei Martiri poi presumibilmente per effetto forse anche tettonico o comunque per le alluvioni dell'ardo è stato il corso del Piave si è esportato dove è attualmente e di fatto dove è adesso il corso del Piave affiora il substrato mentre dove sorge l'abitato di Belluno si vedono solo depositi alluvionali a una prima vista vabbè potrebbe essere una cosa diciamo relativamente semplice se noi guardiamo lungo la valle dell'ardo è interessante vedere che il flisce il substrato affiora fino a qui dove c'è la creso come si chiama la cosa mortuaria lì nell'alveo si vedono bene gli affioramenti di flisce poi scompare e riaffiora poco più a nord vabbè voi che siete qua del posto io sono di Pado adesso il posto lo conosco abbastanza bene ma non sono nato qui qui in mezzo c'è un buco nel senso che se si cammina lungo l'ardo non si vede più il substrato che peraltro potrebbe essere profondo anche un metro sotto le ghiaie ma non si sa in realtà il professor Semenza ancora parecchi anni fa aveva individuato qui erano stati fatti dei sondaggi profondi che non avevano trovato la roccia o l'avevano trovata in profondità e questo mi aveva insospettito ma ci sono anche delle pubblicazioni che parlano di un paleoalveo del piave che passa qui proprio in centro e quindi ho cercato di approfondire gli studi allora io dovevo fare un po' una risposta sismica lungo il centro e ho cercato di approfondire gli studi anche se non è stato semplice perché in centro fare indagini nuove risulta un po' difficile fare sondaggi molto profondi risulta difficile e costoso e quindi insomma ho cercato di arrangiarmi tra virgolette però facendo tutta una serie di indagini in superficie raccogliendo i dati disponibili ho cercato di ricostruire al meglio la sezione una sezione lungo il centro di Belluno qui ci sono segnate alcune indagini che sono state fatte ma ne ho fatte molte di più ma queste sono alcune e poi alla fine il risultato è questo qui cioè dove siamo noi adesso che poi praticamente è qui la roccia è molto superficiale a 10-15 metri di profondità poi si approfondisce notevolmente e qui in centro arriva a spessori dell'ordine di 120 metri circa e poi risale un po' il tetto del substrato e riaffiora qui dove attualmente il corso del Piave questo qui è il paleoalveo del Piave questo è importante perché come ho fatto vedere negli esempi precedenti ovviamente con una struttura del sottosuolo così chiamiamola articolata la risposta sismica sarà altrettanto articolata perché chiaramente dove abbiamo 15 metri di copertura alluvionale avremo una risposta sismica del terreno molto diversa da dove ne abbiamo 100-120 credo sia l'ultima diapositiva ecco vi faccio vedere solo i fattori di amplificazione qui vedete come sono estremamente diversi anche in questo caso sia in funzione allora qui siamo all'inizio della sezione dove la roccia è poco profonda e poi man mano l'amplificazione aumenta fino a dove abbiamo spessori dell'ordine centinaia di metri qui contano anche le velocità cioè contano gli spessori e poi anche le velocità dei terreni e non solo gli spessori quindi bisogna vedere anche un po' che velocità sono state inserite nel modello per poi tornare a diminuire in fondo la sezione cioè verso il Piave dove di fatto la roccia torna a essere più superficiale ecco anche questo è un esempio insomma mi sembra abbastanza parlante di come sia necessario conoscere in modo più approfondito possibile sia la geometria dei depositi alluvionali che andiamo a studiare quindi la struttura del sottosuolo in particolare la morfologia del tetto del substrato roccioso e sia poi ovviamente anche i parametri sismici che sono da inserire nei modelli in particolare la velocità delle onde sismiche poi è chiaramente necessario conoscere la granulometria dei terreni seghaia sabbia argilla quel che è e in particolare molto importante poi la conoscenza delle velocità delle onde sismiche perché questo parametro gioca parecchio poi nella risposta sismica ecco io ho terminato con questa immagine grazie inviterei il professor Bursi inizia uno poichè benissimo sì questa 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 sì 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 quindi la mosse davanti qui il mouse funziona bene allora io sono Oreste Bursi dell'università di Trento professore di ingegneria sismica e di ponti vi parlo un po' cioè mentre lascio un po' a lui degli aspetti più tecnici io mostrerò solo qualche slide tecnica invece vi faccio vedere cosa accade un po' in università quando si parla di rischio ringrazio ovviamente gli organizzatori qui del delle giornate e ringrazio anche il presidente dell'ordine degli ingegneri l'ingegnere dalla corte che con la quale abbiamo appunto come si chiama stilato l'accordo con l'università di Trento e gli altri dipartimenti allora due parole veloci sul DICAM questo è il nostro dipartimento di ingegneria qui a Mesiano siamo localizzati a Mesiano quindi ingegneria civile ambientale meccanica e beh alcuni di voi si sono laureati da noi adesso il più grosso dipartimento all'università di Trento perché sostanza abbiamo dentro l'ingegneria civile strutture ambiente territorio abbiamo edile architettura abbiamo l'ingegneria energetica e una laurea in meteorologia qui vedete un po' come un po' il ranking dell'università di Trento nonostante sia una università medio piccola ci posizioniamo abbastanza bene a livello di ranking e queste sono un po' le nostre aree di ricerca quindi come vedete copriamo la parte un po' ambientale climate change la parte della meccanica materiali e strutture intelligenti la parte diciamo così diciamo dell'urbanistica dell'ingegneria sostenibile scienza dell'architettura modellazione simulazione in ingegneria quindi la parte più di meccanica dei solidi e delle strutture energia green technology e di recente abbiamo anche acquisito il gruppo di campi elettromagnetici che è molto importante perché se voi vi girate in giro molto spesso troverete base station dove ci sono appunto i ripetitori di onde elettromagnetiche con i quali funzionano i vostri telefonini e stiamo lavorando anche su quegli aspetti per integrare parte di quelle strutture come pelli degli edifici questo pensando un po' al futuro ecco qui ho elencato un po' i corsi di laurea triennale questi sono i corsi di laurea magistrale ma ne parlavo un attimo prima noi non abbiamo le lauree professionalizzanti abbiamo auspicato abbiamo spinto un po' per averle quelle che riguardano un po' i geometri la professione dei geometri dei periti edili questo come dipartimento anche l'altro dipartimento ha spinto un po' per la laurea professionalizzante del perito industriale però quel tipo di laurea lì implica appunto anche un anno di laboratori e quello deve essere fatto cioè lì abbiamo bisogno dell'aiuto della provincia autonoma di Trento per fare quelle attività perché come università non possiamo ospitare cioè abbiamo bisogno della provincia quindi queste iniziative nonostante siano approvate al ministero ma di fatto non partono e abbiamo chiuso contemporaneamente le lauree professionalizzanti quindi quindi perché gli studenti non erano tantissimi e quindi e ci costava tra virgolette troppo tenere aperti ulteriori corsi di laurea adesso questa era adesso vorrei dirvi un po' sostanzialmente quanto non sia facile introdurre ottenere accese le tematiche del rischio e dell'affidabilità dentro anche un dipartimento di ingegneria beh sapete tutti la differenza tra affidabilità e rischio nell'affidabilità noi calcoliamo la probabilità di rottura ovvero di superamento ovvero che la domanda abbia superato la capacità invece quando parliamo di rischio parliamo anche delle conseguenze e quindi introduciamo anche gli aspetti economici allora questo quindi io prendo come esempio la laurea magistrale in ingegneria civile che avevamo fino a quest'anno e che sostanzialmente prevedeva quattro orientamenti strutture riabilitazione infrastrutture geotecnica e progettazione integrata degli edifici e sostanzialmente soltanto all'interno delle strutture c'era un c'è un corso di ingegneria sismica sostanzialmente dove si parla di affidabilità si parla di rischio abbiamo fatto una cioè abbiamo aggiornato diciamo l'ordinamento della laurea magistrale in ingegneria civile e volevamo sostanzialmente inserire un orientamento di valutazione e mitigazione del rischio no quindi vedete quindi dove volevamo trattare più in dettaglio degli aspetti dell'ingegneria qui vedete principalmente l'ingegneria civile anche idraulica che riguardano che riguardano il rischio questo volevamo farlo o con un'impostazione classica di tre corsi di indirizzo più altri due scelta o con un carattere più internazionale che prevedeva anche un semestre all'estero e volevamo appunto inserire vedete dei corsi proprio ad hoc che coprivano vedete gli eventi estremi valutazione progetto e valutazione di rischio di sistemi strutturali eccetera eccetera che cosa vabbè queste erano un po' le motivazioni e quando si parla di rischio ovviamente bisogna necessariamente si va a toccare il calcolo non lineare gli aspetti di probabilità e statistica al giorno d'oggi e anche la sensoristica appunto se si vogliono fare indagini come quelle che abbiamo visto prima anche gli ingegneri devono acquisire delle conoscenze e trattamento dei sensori il rischio e l'affidabilità in termini moderni e questo figura già in parte nella normativa anche se non è citato esplicitamente l'ingegneria sismica sostanzialmente basata sulle prestazioni per cui al giorno d'oggi se noi vogliamo possiamo fare vedete già delle analisi non lineari nelle quali prevediamo appunto il collasso cioè cerchiamo di stimare anche la condizione di collasso della struttura però quello che è accaduto e sarà sempre di più così oltre agli aspetti ingegneristici cioè forze quindi taglio la base stati limite e deformazioni sarà sempre più importante la percentuale sostanzialmente costi di sostituzione quindi rate di casualty quindi di morti e tempi sostanzialmente di downtime no? tempi per i quali le strutture non possono essere usate quindi è chiaro che a giorno d'oggi se si parla di rischio l'ingegnere deve avere delle conoscenze questo è il famoso integrale triplo con il quale facciamo stime appunto di superamento annuale di certe variabili di decisione che può essere costo di sostituzione può essere numero di morti stimati ad un certo numero di anni oppure struttura chiusa per un certo numero di anni quindi servono delle conoscenze che implicano il calcolo non lineare e la probabilità quindi che cosa siamo riusciti a fare e quindi questo adesso è il nuovo orientamento cioè orientamento il nuovo corso di laurea in ingegneria civile che è stato approvato e come vedete adesso abbiamo le strutture abbiamo una tripla laurea in inglese ed abbiamo adesso le infrastrutture civili digitali quindi nel percorso strutture oltre all'ingegneria sismica abbiamo introdotto siamo riusciti a introdurre un corso di affidabilità strutturale nel quale si studia in maniera più rigorosa e sistematica la probabilità e l'affidabilità strutturale abbiamo un corso di tripla laurea con i colleghi di Dortmund e Nantes nel quale vedete c'è l'ingegneria sismica quindi e introduciamo anche la sostenibilità e poi abbiamo un curriculum di infrastrutture digitali civili nel quale quindi introduciamo sempre l'affidabilità vedete qui ad esempio non c'è spazio per l'ingegneria sismica e faremo un'ingegneria sismica all'interno della costruzione di ponti come quindi questo per dirvi che non è per nulla facile sviluppare ottenere viva la cultura diciamo così del rischio visti tutti i limiti e le interazioni che troviamo dentro gli Atenei come si sviluppa cioè qual è l'ambiente nazionale qui vedete ad esempio come il Politecnico di Milano ha una laurea magistrale no in sulla mitigazione del rischio e questo ha un numero di studenti che è abbastanza cioè importante vedete però che ci sono molti studenti stranieri che seguono questo corso di laurea trovano ovviamente subito lavoro all'Università di Pavia anche l'Università di Pavia ha una laurea magistrale sul rischio il numero però di qui vedete come è organizzato nel senso che c'è una parte idraulica e una parte strutturale consistente ci sono moltissimi sbocchi professionali infatti la domanda di questo tipo di ingegneri è importante però non sono moltissimi gli studenti che stanno insomma le notizie che arrivano da Pavia non è che sono molto incoraggianti troviamo ad esempio anche dei corsi di rischio dei corsi di master ad esempio a Monaco di Baviera però vedete questa ha un taglio abbastanza matematico insomma no flow the risk no quindi non è molto applicativo nell'ultima slide la penultima che vi mostro questo è un progetto della COPY la COPY è la conferenza per l'ingegneria che è coordinata dal professor Tubino dell'Università di Trento vedete è stato fatto un position paper o come si chiama un white paper dell'ingegneria del 2040 queste sono un po' sostanzialmente i punti chiave quindi assoluta consapevolezza della centralità del ruolo dell'ingegnere nella società della conoscenza servono nuove competenze conoscenze che l'ingegnere dovrà possedere per esercitare il ruolo di qui sopra c'è una crescita di domande degli ingegneri che probabilmente non sarà supportata dall'offerta quindi gli spunti riflessione sono ci sono questi nuovi ruoli che deve avere l'ingegnere uno di questi è sempre più evidente quello del rischio cioè delle competenze che riguardano il rischio ovviamente ho cercato di farvi capire come non sia facile sostanzialmente riuscire a introdurre nella legislazione esistente questo e quindi poi c'è tutto un problema di come queste sfide saranno appunto governate bene vi ringrazio lascio la parola buon giorno a tutti mi presento sono Zalon Gabriele sono un libro professionista e un collaboratore di ricerca personalità di studi di Trento del Departimento Ingegneria Civile e Meccanica Ambientale mi occupo essenzialmente di ricerca su strutture in acciaio composta acciaio calcestruzzo sia in termini di attività di ricerca che attività di divulgazione con promozione acciaio principalmente come relatore di corsi e mi occupo di ingegneria sismica sia dal punto di vista didattica e supporto alla didattica all'interno del corso di ingegneria sismica e progettazione strutturale e come attività di ricerca proprio nella parte sismica quando noi parliamo di rischio sismico sappiamo che il rischio sismico è dato essenzialmente da tre aspetti importanti quella che è la pericolosità o lazzar la vulnerabilità e l'esposizione mentre diciamo dal punto di vista della pericolosità non è che possiamo fare poi molto dal punto di vista ingegneristico quello che si può fare è di capire la vulnerabilità della nostra struttura ovviamente per capire la vulnerabilità ci sono diversi modi degli approcci più analitici ma molto anche arriva dalla ricerca scientifica nel senso che la ricerca scientifica può essere uno strumento che supporta l'ingegnere per capire quale sia la reale risposta alla struttura e quindi la sua vulnerabilità quello che vi farò vedere io nel poco tempo a disposizione che ho è alcuni settori di ricerca che stiamo portando avanti nella strada dei studi di Trento e nei quali io sono direttamente coinvolto che hanno proprio la funzione di valutare il comportamento sismico delle strutture la cosa importante e quindi l'aspetto del rischio diciamo che la concezione poi del rischio dipende molto dalla zona in cui ci troviamo quello che vi faccio vedere qui è un progetto di ricerca europeo a reti CS chiamato Fishwall che è un progetto che riguarda delle pareti tagliafuoco per delle costruzioni industriali monopiano è un concetto diciamo così del rischio che dipende da zona a zona perché? perché quando è nato questo progetto in realtà che vedremo sono di bulloni in alluminio che in caso di incendio dovrebbero fondersi e quindi perdere la proprietà meccaniche e la parete tagliafuoco rimane ancorata alla struttura che non è soggetta a incendio in realtà non sono mai state considerate non erano mai state considerate dal punto di vista sismico perché? perché derivava era un progetto che arrivava dai paesi del nord Europa per cui l'azione sismica e la pericolosità era limitata rispetto al nostro paese quello che noi abbiamo cercato e stiamo portando avanti di quello di investigare il comportamento sismico di queste strutture e quindi di poter sviluppare dei prototipi quindi dei modelli di queste tipologie di connessioni da applicare anche in condizione sismica non è un caso puramente teorico come vi dicevo prima è un caso che riguarda delle strutture reali quindi abbiamo preso degli edifici di riferimento in realtà quattro strutture realizzate con diversi profili in acciaio l'acciaio laminati a caldo quindi due diverse tipologie con una superficie di 1400 e 3140 metri quadri quindi comunque di capannoni di una certa importanza e delle strutture invece che sono realizzate con dei profili in acciaio a sezione saldata hanno superfici molto più grandi questi capannoni arriviamo ai 12.000 metri quadri e quindi sono delle superfici dei capannoni che anche dal punto di vista industriale e strutturale sono molto importanti qual è il problema e qual è il scopo della ricerca in questo tipo di applicazioni investigare qual è il comportamento sismico e quindi capire poi la vulnerabilità delle strutture che andiamo a progettare e che abbiamo sul nostro territorio l'idea di fondo qui dal punto di vista della ricerca è di valutare il collegamento di questi bulloni questi tre bulloni che vedete sono dei bulloni in alluminio che sono collegati a un elemento a T che poi è collegato alla parete tagliafuoco questi elementi in alluminio sono dei elementi che in caso di temperatura perdono la loro resistenza meccanica e quindi cosa succede è che la parete diciamo così si stacca se questa è la parte di struttura soggetta a fuoco si stacca e rimane attaccata all'altra parte della struttura che non è stata soggetta a fuoco quindi fa ancora da protezione evitando che l'incendio passi da una struttura all'altra ovviamente questo è stato pensato dal punto di vista del fuoco ma non è stato pensato dal punto di vista sismico il nostro obiettivo è quello di di progettare questo tipo di connessioni e di testarle dal punto di vista sismico quindi per poter dare uno strumento all'ingegnere anche di valutare sismicamente come si comportano queste strutture quello che vedete qui sono delle prove di tipo oligociclico quindi lo cycle fatigue quindi la fatica a basso numero di cicli quindi sismiche in questo caso abbiamo realizzato una struttura a doppio pannello solo per una questione di simmetria durante la prova in cui cosa abbiamo un attuatore che simile a relazione diciamo così il movimento dovuto al sisma su queste due pareti quello che noi andiamo a valutare con questo tipo di prove è in realtà il comportamento isteretico di questo tipo di connessione che è un comportamento che si serve appunto per capire come si comporta la struttura e per avere informazioni per poi poter valutare la risposta della struttura in caso di sisma quindi anche di capire come si comporterà la vulnerabilità di queste strutture quindi questo è un aspetto diciamo così uno degli aspetti che sto affrontando in grado di l'Università di Trento che ringrazio dal punto di vista proprio sismica e per il rischio un secondo aspetto importante che andiamo a considerare che vi faccio vedere è le nuove tecnologie che si possono applicare alla sismica in questo caso vedremo un sistema di monitoraggio innovativo rientra all'interno del progetto di ricerca del LUIS che è quindi coordinato in questo caso per l'Università di Trento dal professor Oreste Bursi e che è finalizzato diciamo così a far cosa a monitorare le strutture quindi può essere un sistema di monitoraggio di strutture reali ma può essere anche un sistema che viene utilizzato per l'adreggiamento di strutture in caso di sisma l'altro non è che una tecnica di monitoraggio della struttura in cui io valuto attraverso l'acquisizione di segnali ultrasonori quindi sono segnali che noi non percepiamo con l'udito con il nostro udito perché le frequenze sono maggiori molto maggiori di quelle che noi abbiamo con l'udito umano e per quanto riguarda l'ordine di ampiezza siamo all'ordine del 0 ai 100 decibel come emissioni acustiche immaginiamo che se noi abbiamo una parte in acciaio che vedremo dopo la propagazione per esempio non solo una cricca in caso di fatica con questi sensori le sentiamo occhio nudo non la sentiamo perché le frequenze sono molto più grandi di quelle che noi siamo in grado di percepire qual è l'idea di queste nuove tecnologie applicate alla sisma quindi anche per la valutazione per tener conto del rischio silvico è quello di capire e di monitorare le strutture attraverso l'acquisizione di segnali in termini di durata ampiezza adesso non abbiamo il tempo di entrare quindi la valutazione dei segnali che noi abbiamo quindi in funzione di quanti it abbiamo di segnale la durata che questi hanno e le frequenze che hanno questi segnali siamo in grado di capire se la struttura è danneggiata oppure no quindi questo è un sistema che può essere utilizzato in strutture in esercizio per valutare il monitoraggio continuo e quindi un sistema di monitoraggio continuo noi lo stiamo applicando anche per un monitoraggio di viadotti e quindi per capire lo stato di viadotti come sono però se io ce l'ho applicato su una struttura questo può essere anche un sistema che utilizzo a seguito di un sisma per capire se la mia struttura ha subito di danneggiamenti oppure no quindi per capire quali sono stati i danni perché in funzione dell'ampiezza degli it e della durata sono in grado di avere delle informazioni e quindi capire come muoverli qui vi faccio vedere alcune prove che sono state realizzate sempre all'università di studio di Trento in questo caso riguarda un dettaglio saldato e quindi qui la dovistà della prova era doppia perché da un lato abbiamo monitorato attraverso l'utilizzo di due sensori acustici uno posto sopra e uno sotto la saldatura abbiamo fatto una serie di prove di tipo oligociclico a trazione in questo caso quindi simulano in qualche modo se abbiamo il comportamento sismico perché è una prova di carico e scarico non siamo dati in compressione problemi di instabilità però è comunque una prova che simula un comportamento sismico quindi con le plasticizzazioni locali e di questa abbiamo fatto quattro prove considerando due diverse tipologie di campioni senza difetti quindi saldati correttamente con la presenza di difetto e poi abbiamo utilizzato la stessa tecnologia quindi la stessa metodologia di prova per anche prove di monitoraggio invece strutture esistenti attraverso otto prove a fatica ad alto numero di cicli anche qui con campioni in parte danneggiati saldati con difetto e in parte no quindi questa è un'applicazione di tecniche innovative perché comunque è una tecnica ancora embrionale che deve essere approfondita per lo studio della risposta e quindi del comportamento e dello stato di salute di strutture quindi che può essere utilizzata sia per il monitoraggio e quindi in fase di esercizio che anche in fase diciamo di evento sismico quindi del stato di danneggiamento a seguito dell'evento sismico ovviamente tutta questa serie di dati cioè che noi andiamo a acquisire con le ceste hanno poi tutta una serie di trattamenti che vanno attraverso l'applicazione di machine learning e particolari metodi di classificazione di dati che si trovano diciamo quindi si cerca di applicare per poter capire come ottimizzare queste tecniche per le strutture che noi andiamo a considerare quindi per l'applicazione che andiamo a fare e quindi questi sono due dei esempi che vi ho riportato e che stiamo studiando ce ne sono altre di prove che stiamo facendo sempre dal punto di vista sismico e quindi quello che penso io è che è fondamentale anche avere questa ricerca e la connessione tra quello che è l'università e le ricerche che si stanno portando avanti in questo senso che sono comunque delle cose innovative e l'ingegnere che si trova a lavorare nel mondo esterno per poter capire come risolvere il problema e quindi essere in grado di valutare il rischio le vulnerabilità delle strutture e quindi di poter dare delle risposte adeguate anche alle strutture tenendo conto del patrimonio che abbiamo all'interno del territorio e di quindi delle strutture che ci sono io vi ringrazio per l'attenzione e spero di essere stato un'interno non sono ammesse domande perché no più che altro perché faremo rispetto a tutti quelli che non abbiamo dato la possibilità insomma e non le temiamo comunque no bene a questo punto l'ultimo intervento è quello dell'architetto Erranti ok bene buone che ci ascoltano in remoto e vi intratterrò intanto un ringraziamento per il convegno sicuramente utile anche perché ha due fasi cioè alla fase sia per i professionisti sia per la popolazione perché giustamente il sisma è un elemento ignoto di quelli che sono gli eventi di quelli che sono anche le possibilità di prevenirlo di prevederlo è sicuramente utile per tutti un ringraziamento quindi agli organizzatori un ringraziamento anche a Pugli Belluno che ci ha pensato alla sala ecco io mi avverrò di alcuni appunti che ho predisposto e di alcuni slide per risposta una traccia sulla base della quale esporre l'argomento quindi non parlerò a braccio anche per evitare magari di divagare in considerazioni e quindi se ogni tanto leggerò avrete modo di perdonare diciamo che quando ci chiesero come architetti di partecipare all'evento sulla ricorrenza del 150esimo anniversario del sisma che è interessato Belluno nel 1873 e di intervenire come ordine gli architetti siamo rimasti un po' perplessi sulla nostra effettiva conoscenza competenza relativamente a questo tema perché è un tema è una materia così specialistica che per noi architetti è relativa e ci siamo chiesti ci siamo posti diciamo chiesti come poterci porre di fronte a questo tema di fatto le questioni su cui ripetere sono molte come comportarsi in presenza di un sisma e come educare le persone e qui sicuramente il convegno è utile come prevedere e prevenire un sisma se è fattibile come mettere in sicurezza l'edificio e come ripararne i danni come costruire e poi come architetti dove costruire esattamente dove costruire o meglio ancora dove andare a costruire il nuovo cioè dove pensare di sviluppare la città futura a luce di un evento sismico che ne ha interessato una parte perfettamente consapevoli che tuttavia il fenomeno non si presenta in maniera diffusa non si presenta con dei limiti ma interessa tutto il territorio anche in via regressiva ovviamente in realtà la questione sismica bene o male ci ha sempre interessato come architetti perché una volta anche inconsapevolmente ci ha coinvolto nella realizzazione di edifici di strade di ponti in realtà l'architetto non realizza solamente edifici come magari si può pensare ma bisogna di affiancarsi di affiancarsi a professionisti che hanno una specifica conoscenza e competenza con queste materie particolari la nostra formazione universitaria però va anche detto ci ha permesso di valutare con un occhio abbastanza critico il territorio nel senso che noi architetti siamo anche pianificatori permettetemi questa questa accezione ma in effetti il corso di laurea prevede anche proprio degli studi approfonditi sulla pianificazione allora ci siamo chiesti in realtà cosa può aver inciso effettivamente su Belluno sul suo territorio l'evento del 1873 beh partiamo intanto con alcuni dati relativi all'evento e qui riassumo un po' i dati di quella che sono che è stato il le conseguenze del del sisma nel 1873 dunque il 29 giugno del 73 esattamente 150 anni o sono all'albero delle 458 una scossa di magnitudo 6,3 della scala Ritter ha interessato il territorio della provincia del comune di Belluno e la città stessa all'epoca secondo il censimento del 1871 e siamo a pochi anni ovviamente dall'unità d'Italia in città risultava quindi il primo censimento fatto dallo stato dal regno d'Italia in realtà in città risultavano censiti 4.680 abitanti e circa 410 famiglie mentre le frazioni risultavano abitate da 1470 famiglie per un totale di 10.037 persone una popolazione complessiva di 15.971 abitanti le cronache riportano come il centro più importante fra quelli danneggiati sia stato appunto Belluno nei suoi 508 edifici 8 crollarono sono dati che forse avete anche già sentito ma ci tengo a riportarli perché di fatto poi ha una sua conseguenza anche nella lettura 110 risultarono a demolire 139 completamente a ristrutturare e 251 richiestero riparazioni più o meno significative la chiesa di Sant'Andrea presenta l'imbocco dell'attuale omonima via di piazza Duomo fu completamente distrutta vedremo poi in una in una planimetria e rimasero senza casa 105 famiglie nei suborghi 242 caseggiati totali presenti 2 dovesse dovettero essere demoliti 21 furono da ristrutturale e i restanti 219 da riparare su 1260 abitazioni quindi 15-1260 169 da riparare 4 chiese crollarono 21 riportarono danni più o meno gravi quindi nelle zone maggiormente colpite un terzo degli edifici fu di fatto danneggiato nella stessa Belluno l'abso della cattedrale di San Martino collassò 8 palazzi verranno completamente distrutti mentre 110 edifici dovessero essere abbattuti successivamente 139 restaurati altri 151 necessitarono di qualche lavoro nella periferia urbana due interi isolati dovessero essere demoliti e 21 case furono restaurate e 219 subirono lievi danni di fatto nessun edificio della città dei subordi rimase indenne da questo evento qui ho un'altra slide che volevo mostrarvi ecco che ho perso cosa no per entrare la pennetta ok grazie dunque questo studio è stato fatto all'accademia di Wissenshapten nel 1874 contiene una serie di dati un capitolo specifico sulla attività che è stata fatta di studio per quanto riguarda il sisma di Belluno viene indicata viene indicata viene indicata mi sentite ok vengono indicate le aree qui vedete quindi la zona di maggiormente interessata è questa che vedete nella parte ellittica zona di Belluno San Pietro Pieve dal Pago e la dorsale della faglia che poi converge verso la zona più a nord-est e il rilievo degli effetti qui trovate successivamente il rilievo degli effetti del il rilievo degli effetti sulla in particolare vedete Belluno Levego Quantin la zona di Farra che è stata maggiormente interessata la faglia che va verso come dicevo nord-est e e successivamente sempre sulla base dello studio questi dati qui sono rappresentazioni grafiche che riguardano alcune zone della chiesa di Pieve della chiesa di Garna dove sono individuati in maniera grafica i maggiori le maggiori lesioni che gli edifici hanno hanno subito in particolare questa è la zona di Belluno il Pieve dal Pago e in particolare ancora da questo potete rilevare tutti gli edifici che sono stati interessati da crolli demolizioni vedete qua la parte dell'abside della cattedrale la chiesa di Sant'Andrea completamente demolita completamente demolita zone l'auditorium da Palazzo di Vescovi con tutte le facciate restate da crolli la parte sostanzialmente di Contra San Giuseppe l'attuale via Garibaldi pensavo qui valga anche la pena di fare un breve inquadramento del periodo storico economico perché l'economia cittadina dell'epoca si basava sostanzialmente su attività di commercio di legname e dei prodotti agricoli mentre le frazioni rappresenti via principale l'attività agricola l'economia della provincia si risentiva significativamente all'epoca del fenomeno dell'immigrazione che contribuiva a sanare un bilancio altrimenti fortemente squilibrato perché da un lato la riduzione del consumo interno causata dall'assenza di molti miliardi di persone per un lungo periodo dell'anno e dall'altro mediante apporti economici che proporano le famiglie consentito il pagamento di genere di importazione Belluno in questa fase era stata da pochi anni affrancata da secoli di dominazione sommato estrane al proprio contesto territoriale comincia dal 1420 con l'inizio della dominazione dominio della Repubblica Veneta durata quasi interrottamente per oltre tre secoli e mezzo e successivamente dall'Austria fino al 1866 anno in cui fu effettivamente annessa al Regno d'Italia in questo periodo diciamo il clima emerge una voglia di liberarsi del Medioevo e l'interesse realizzare delle roccaforte tanto per lo sviluppo economico e culturale della popolazione quanto per la difesa della territorialità nazionale dal nemico presente a nord ovviamente nel nuovo contesto ideale di novità amministrativa la città dannella una crescente voglia di modernizzazione è il periodo che svilupperà di fatto più avanti la costruzione di alcuni edifici pubblici come le scuole elementari la stazione di Belluno nel 1896 e alcune strade e ponti l'interiore è quella sul Piave nel 1884 e il distretto militare sì solo alcuni accenni se non hanno già fatto altri lettori sulla cronaca dell'evento in archivio storico non è reperibile non sono reperibili diciamo dati sulla sui libri di giunta una dell'epoca ma ad alcuni atti del consiglio risulta che nella seduta del successivo luglio del 73 viene finalmente approvato tutto ciò che la giunta fa e viene addirittura data delega per l'apertura di un mutuo decennale di 100.000 lire 6% di interesse e una successiva dell'ottobre per altri 30.000 lire tornando al nostro tema va detto che siamo indubbiamente in un'epoca in cui non ci sono ancora studi e per tante indicazioni precise puntuali su come intervenire con tecniche di carattere pur generale in grado di imporre nuovi interventi edilizi regole costruttive idonee a garantire un incremento della resistenza di fabbricati in presenza di SIRMA vi sono secondo la cronaca alcune iniziative personali da parte di persone più consapevoli quali l'intervento dell'ingegnere Angelo Sperti nella costruzione della sua casa tra il 76 e l'80 tuttora esistente in via Tissi quella che c'è all'angolo tra via Tissi e via Fantuzzi in Villa Sperti appunto che pare abbia introdotto alcuni accorgimenti specifici atti a garantire una risposta diciamo più idonea alla presenza del sisma e lo stesso Marezzo Bazzolle in alcune memorie parla di disposizioni municipali sull'obbligo di riduzione dell'altezza dei fabbricati lungo l'attuale via Garibaldi ecco il tema principale è quello di capire come i piani regolatori successivi al periodo del sisma abbiano potuto tenere in considerazione quell'evento nello sviluppo della sua pianificazione il primo piano regolatore dell'1 vede la luce nel 1905 su iniziativa dell'amministrazione comunale che pone la necessità di normare nuove costruzioni in parte nord della città la cosiddetta zona favola favole che è quella presente tra la chiesa dei gesuiti via Zuppani e via Rialti via via Ricci via Zuppani via Ricci ed è redatta da un tecnico comunale viene di fatto viene approvata nel 1905 e non fa però nella relazione illustrativa non fa alcun riferimento al recentissimo sisma fa riferimento a memorabile inondazione del 1882 cita nel testo ma nulla si dice di fatto in relazione al sisma recente la necessità di espandere la città oltre la cesura rappresentata dalla ferrovia e dall'ardo nel frattempo costruita a ferrovia porta al piano regolatore dell'ampliamento della città nella zona di Cavarzano del 1921 redatto da Agostino Zadra quello che poi con il fratello Guglielmo ha costruito ha progettato costruito le scuole le scuole di Gagbelli ed è approvato nel 1922 e cosa da rilevare pare sollecitato dai cittadini allo scopo di trasformare l'alto piano di Cavarzano in un moderno partire cittadino ma neppure in questo in questi documenti si fa menzione dell'evento del 73 successivamente a questo c'è a seguito di un concorso predisposto dall'amministrazione comunale la predisposizione di un altro piano regolatore concorso vinto dallo studio al Pago Novello Calbiati Barcelloni Corte che prevede uno sviluppo della città verso la piano di Cavarzano che è un'area di fatto puntualmente identificata ma senza una sua caratteristica senza una sua identità organizzativa e che necessita di un collegamento con la vecchia città direi che anche in questo studio dalle analisi fatte permane comunque l'assenza di considerazioni sulla sismicità del territorio e sull'evento del 1863 va anche detto che sono passati oltre 50 anni oltre 70 anni meglio dall'evento tralasciando poi l'ipotesi Winkler che prevedeva un incremento di 200.000 abitanti nel Comune di Belluno per una sorta di competizione controviso l'attuale situazione organizzativa pianificatoria del Comune di Belluno è conseguente al Piano Dolcetta è stato provato nel 1996 che tuttora vigente è un termine un po' forse eccessivo ma che non è più stato di fatto riaggiornato ripianificato quindi a tutti gli effetti oggi ancora il punto di riferimento in questo piano nella relazione allegata ci sono alcune pagine che vengono dedicate alla descrizione delle caratteristiche sia tettoniche sia sismo-tettoniche del territorio però nell'individuazione delle zone che tra l'altro il Piano Dolcetta fa in maniera proprio puntuale e con anche dei piani particolaggiati molto interessanti tra l'altro con delle sistemazioni degli interventi proprio anche di mini micro pianificazione molto molto interessanti per dare qualità e lustro alla città a parte questa relazione che parla della presenza di una faglia tettonica di una faglia con evidenti probabilità sismiche a parte questo non vengono di fatto pianificate diciamo zone in cui attenersi a certe prescrizioni quindi la conclusione che abbiamo avuto come come ordine degli architetti è stata ma quindi la pianificazione di fatto non si è mai occupata del sisma è una cosa corretta una cosa scorretta quasi avesse diciamo mantenuto sconosciuto il lato debole del territorio relativamente proprio all'aspetto sismico e oppure o marginalmente come si diceva appunto nel piano d'Alcetta quasi a sposare il principio che in effetti più che da un punto di vista urbanistico la parte l'aspetto sismico debba essere demandato diciamo all'intervento edilizio a tutte quelle analisi tutte quelle verifiche tutte quelle regolamentazioni che possono derivare solo ed unicamente dalla parte edilizia con prescrizioni emanate dallo Stato inizialmente e a cascata dalla regione dallo Stato in realtà che interviene organicamente solo nel 74 con la legge 64 e poi con il successivo decreto del 6 gennaio 96 e dalla regione che individua diciamo nella legge regionale 27 alcune indicazioni ma che ha proprio recentemente quindi con la delibera 44 del 2021 ha cercato di coordinare la legge generale 27 con il testo unico dell'edilizio del 2001 le conclusioni quindi che abbiamo condiviso da questa analisi da questa verifica risultano di fatto che il dubbio che se su in un contesto territoriale in cui sussiste un'acclarata vocazione di stabilità del suolo la cui intensità di fatto non è né prevedibile né prevenibile peraltro sia corretta demandare solo a interventi edificatori la scelta degli interventi da fare in base ai calcoli probabilistici strutturali oppure in alternativa se non sia il caso di limitare l'utilizzo del territorio laddove vi sia una chiara vocazione sismica il nostro territorio nazionale di fatto è classificato l'evento rischio sismico per il 44% mi risulta pare che solamente la regione sardegna ne sia esente quindi risulterebbe di fatto impraticabile inibire edificazione pressoché in metà il territorio italiano peraltro il territorio italiano non è edificabile del tutto perché va considerato che c'è tutta una parte di presenza di rocce montagne e zone sicuramente non insediabili quindi l'alternativa non rimane che demandare regole costruttive il compito di migliorare l'attuale situazione di edifici esistenti sempre un'ottica probabilistica di progressiva conoscenza di cause ed effetti perché sappiamo conosciamo perfettamente cosa significhi vulnerabilità di un edificio e per quanto tempo si possa ipotizzarne effettivamente il grado di sicurezza accettabile sappiamo che gli edifici presenti nella maggior parte dei casi non hanno possibilità di essere adeguabili ma semplicemente migliorabili e questo vale soprattutto per quanto riguarda gli edifici pubblici quindi una conclusione una considerazione meglio in conclusione di tutto personale e suppongo che per certi aspetti controversa mi chiedevo se con 14 milioni e mezzo di euro stimati oggi perché solo la fine saprà il corretto ammontare non si potrebbe pensare a un piano nazionale di miglioramento non adeguamento ripeto almeno delle principali strutture di interesse pubbliche piuttosto che pensare a costruire un ponte in piena zona sismica oppure dotare le scuole di edifici meno faticenti di palestre adeguate allo standard non dico europeo ma almeno uno standard decente oppure investire su un piano edilizia carceraria per il cui livello di grado l'Europa continua a inviarci sanzioni e richiami il tutto peraltro a mio avviso con positive ricadute economiche per piccole e medie imprese su una vasta parte del territorio anziché una concentrazione di poche grandi realtà su un unico contesto io avrei finito il mio intervento volevo con queste personali considerazioni concludo il mio breve intervento non però senza esprimere un ringraziamento ai colleghi Saraniec e Flavio Buona che mi hanno assistito alla preparazione della documentazione espositiva a Orieta Cener che a Paolo Areolon che mi hanno guidato nella ricerca dei documenti archivio e infine a Marco Perale che è una fonte di informazioni preziosi per costruire il filo storico della vicenda grazie